Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi a questa nostra manifestazione che è organizzata dall'Accademia delle Scienze in collaborazione con l'Università di Torino che ringrazio nella persona del Rettore Geuna e lo ringrazio ulteriormente per essere qui di persona ed è organizzata anche dal Museo Regionale di Storia Naturale per cui ringrazio anche il Direttore Marco Fino e ringrazierei anche però l'assessorato alla cultura, anzi avremmo dovuto avere, godere della presenza anche dell'assessore Appoggio, la quale però si scusa per un impegno intervenuto ultimo momento, non può essere presente. Allora, cosa c'entra l'Accademia con tutto questo? L'Accademia c'entra per due ragioni la prima è una ragione storica, cioè il fatto che l'Accademia è stata coinvolta nelle origini di molte istituzioni museali torinesi non soltanto questa ma anche ad esempio la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità, l'Osservatorio Astronomico qualcuno avrà visto forse una vecchia foto del Palazzo dei Nobili, il palazzo in cui ora risiedono l'Accademia e il Museo Egizio con una sorta di torretta che era la specola dell'Osservatorio Astronomico che è stata distrutta durante la guerra. Ha avuto grande spazio, grande partecipazione soprattutto per quanto riguarda il Museo Egizio e siamo contenti quest'anno di poter approfittare del duecentesimo anniversario della nascita del Museo Egizio per ricordare un po' a tutti che in realtà il Museo Egizio è nato nell'Accademia perché quel nucleo che ha costituito poi la maggior parte dei reperti del Museo Egizio per molto tempo cioè la collezione Drovetti che il re di Sardegna nel 1824 acquistò a caro prezzo venne data all'Accademia e l'Accademia fu la sede del primo museo egizio anzi Prospero Balbo che era il presidente protempore di allora fu il primo curatore, cioè il primo direttore del museo. In questo caso devo dire nel caso del Museo di Scienze Naturali l'Accademia non può vantare un apporto così grande. Comunque qualcosa è stato fatto. Perché? Perché molte delle collezioni che poi fanno parte costituttiva dell'Accademia, scusate, del Museo di Scienze Naturali erano state donate all'Accademia soprattutto nel suo primo secolo di vita da soci o da privati. Nel 1815, se ricordo bene, queste collezioni confluirono con quelle dell'Accademia rimanendo però differenziate spazialmente come collocazione fino a che negli anni 70 dell'Ottocento ci fu anche un'unificazione fisica con la loro traslazione nel Palazzo Carignano che era sede di molti musei. L'ultimo trasporto fu poi quello da Palazzo Carignano in questa sede quando Palazzo Carignano nel 1938, 38 credo, divenne la sede del Museo del Risorgimento che prima era allocato alla Mole. Quindi c'è tutta una storia che ci lega al museo. Però al di là della storia c'è un'altra cosa che secondo me è anche più importante, perché io dico sempre, io sono uno storico, uno storico della filosofia, però sono uno storico, che la storia è molto importante, però è importante se poi si affaccia sul presente e ci consente di progettare il futuro. Non dobbiamo considerare la storia, come dice a Nietzsche, una prospettiva archeologica, perché altrimenti non serve a niente. Ecco, allora guardando il presente e il futuro, l'Accademia ha molto a cuore il fatto di poter intervenire, che si dice adesso sul territorio. E questo secondo me in due modi, nel modo più proprio è quello della diffusione della cultura, che cerchiamo di fare in tutti i modi, con cicli di conferenze, con convegni anche divulgativi, eccetera, eccetera. Ma poi anche cercando di entrare un po' nella discussione, non oso dire nella proposta di soluzioni, ma nella discussione di problemi specifici del territorio e soprattutto ovviamente quelli museali che ci sono più vicini. Faccio un esempio vicino a quello di cui stiamo adesso parlando. Un paio di anni fa abbiamo organizzato un convegno di una giornata, c'era anche l'assessore Appoggio, c'erano i rappresentanti degli istituzzi, dell'amministrazione. Abbiamo organizzato un convegno sulla situazione dei musei etno-antropologici, non solo torinesi, ma piemontesi, che come sappiamo tutti non godono di buona salute. Da questo è nato un tavolo di discussione, un tavolo di lavoro permanente che continua e ha dato già qualche risultato. Per esempio adesso in occasione della mostra sull'Africa organizzata dai musei reali è stata prodotta una brochure che raccoglieva tutti i reperti che in qualche modo figurativamente, cioè all'interno della brochure, potevano completare questa mostra, reperti che provenivano da tutti i musei etno-antropologici torinesi. Per cui quando abbiamo sentito che si riapriva il museo abbiamo detto che non dobbiamo lasciarsi scappare questa occasione. Anzi si pensava di anticipare l'apertura con la manifestazione che stiamo realizzando oggi, poi c'è stato uno spostamento, anche noi abbiamo avuto i nostri problemi, quindi anziché in qualche modo salutare anticipatamente l'apertura la salutiamo ex post, ma questo lo facciamo con estremo piacere perché non solo vogliamo sottolineare, e lo faranno gli esperti oggi, il valore culturale di questa apertura, il valore profondamente scientifico e culturale di questa apertura, ma vorremmo anche essere vicini alla storia del museo naturale che si apre adesso, ritorna ad aprirsi con questa apertura parziale, ma che si spera possa in tempi non lunghissimi estendersi anche alle altre parti del museo. Ho parlato anche troppo e quindi adesso do molto volentieri la parola al rettore Stefano Geuno, al rettore dell'Università di Torino. Grazie, grazie, allora rendo spunto dalle tue parole, quindi la storia e mi affaccio in due momenti, parto dal più recente, il recente non posso non collegarlo a quando io ho iniziato il mio mandato, sono ormai quattro anni e mezzo, era al cavallo tra il 19 e il 20, sappiamo poi cosa è successo nel 20, quindi con tanti problemi, ma mi dispiace che oggi poi l'assessore non abbia potuto esserci uno dei punti che aveva addirittura introdotto nel programma elettorale, e come è giusto che sia, almeno ci si prova, quando ci si presenta un'elezione e si fa un programma e poi si cerca di realizzarlo, era proprio un'attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio, ovviamente dell'Ateneo, ma come ben dicevi prima, in molti di questi casi diventa addirittura difficile di chi è il patrimonio, nella proprietà, sia stato dell'università, poi l'accademia, poi l'ha donata alla regione, poi l'ha preso il comune, se ragioniamo in termini moderni di grande collaborazione tra le istituzioni, tutto questo perde di significato, e credo ultimamente lo vediamo molto bene, mi raccontano, chi è più vecchio di me, di anni, decenni passati, nei quali quasi ci si rivaleggiava nascondendosi le collezioni tra, magari addirittura all'interno dell'università, da diversi dipartimenti e ancor più al di fuori. Oggi tutto quel mondo è passato, su queste operazioni in particolare, tanto, anzi, apro una parentesi, dicevi prima, altri musei, in quel caso in cui noi siamo pivot, nel campo dell'antropologia, abbiamo, come credo molti qui sappiano, tenuto importanti fondi con il PNRR per ristrutturare importanti spazi dell'asse di viaggiuria, i vecchi palazzi storici dell'università che diventeranno, e credo in tempi non così lunghi, nuove esposizioni per tutta una serie di collezioni, di nuovo, perché no, nostre, ma magari contaminate da collezioni dell'Accademia, della Regione, del Comune, che vorranno metterle insieme. In quest'operazione specifica veramente ci abbiamo lavorato tanto, come voi sanno c'era anche tutta un'operazione immobiliare dietro uno spostamento, che riguardava tra l'altro l'università per altro versante, perché riguardava l'ospedale, il nuovo ospedale, quindi abbiamo lavorato spesso dietro le fila, per un lato stimolando questa riapertura con tutte le forze, come Accademia, io in particolare, con un po' quel ruolo, e anche dove era possibile, agevolandolo in tutti i modi, e quindi veramente, tra l'altro non avevo avuto occasione di venire all'inaugurazione, per me il primo giorno, e sono veramente felice di essere qua. Per cui l'idea è quella che si deve andare avanti su questa strada, ci siamo persi l'occasione di fare questo evento il giorno dell'inaugurazione, ma siccome non è ancora finito, sfruttiamo l'occasione di dire, e parlo a nome dei colleghi che vedo numerosi qua, ma sono sicuro a nome di tutti, ma a nome dell'università ci siamo, siamo disponibili, come dicevi prima, le collezioni sono di tante provenienze, molte delle quali anche le collezioni dell'università, dei vari dipartimenti che le ha messo a disposizione, continuerà a mettere a disposizione e vuole assolutamente collaborare all'ampliamento e al completamento della realizzazione. Una operazione che per noi, di nuovo mi riferisco strettamente all'Università di Torino, si collega all'altra operazione, perché questo museo si lega molto bene a tutti gli altri musei nostri, quelli aperti e purtroppo quei tanti ancora chiusi, che un domani mi piacerebbe diventassero una sorta di rete, questo l'attrattore principale, e da qui il visitatore particolarmente interessato possa essere trasferito e rimbalzato, direi in un termine moderno, in altre situazioni più di nicchia, magari meno conosciute. Quindi credo un progetto ambizioso per valorizzare sempre di più tutto il sistema delle collezioni museali del territorio, ma ancora facendo un gran servizio a chi viene a visitare il nostro territorio, perché sappiamo bene che oggi per fortuna sempre di più c'è un ritorno di attenzione in questo tipo di turismo. Un fatto che ci dicono gli esperti di turismo, di viaggi, che vent'anni fa quasi più nessuno viaggiava per andare a visitare un museo. Oggi a livello globale è ritornata e sta crescendo, ovviamente su fasce magari differenziate di popolazione, però l'idea che l'attrattività di un territorio possa e forse sempre di più potrà essere anche il valore della sua offerta culturale, in particolare museale, e credo che il nostro territorio, questa città, ma in generale territorio, abbia poco da invidiare a tante altre città, in particolare italiane, che ben sappiamo essere tutte dei campioni del mondo in ottica di qualità dell'offerta culturale, ma noi sicuramente non siamo da meno. Dicevo una proiezione un po' più nel tempo, ne commentavamo prima, dicevi giustamente, 150 anni fa, in particolare le collezioni scientifiche erano tutte accademiche, ma perché gli unici fruitori erano il mondo dell'accademia, la popolazione, largamente analfabeta, non era in grado in qualche modo di fruirne, e dall'altro lato per l'accademia all'epoca non erano solo luoghi di terza missione, non si parlava di terza missione, erano luoghi di ricerca e didattica, si studiavano i reperti che si erano collezionati e si portavano gli studenti a formarsi studiando quei reperti. Poi nei corsi e ricorsi della storia, soprattutto nell'ultimo secolo, nella scienza, in particolare le scienze dure, che sono più connesse a questo tipo di temi, c'è stato un po' il boom dell'infinitamente piccolo, dei microscopi, lo dicevamo, negli anni 50, 60, 70, il bravo scienziato non studiava una collezione, non andava a analizzare i reperti, ma studiava al microscopio, sempre più potente, 100.000 ingrandimenti, 500.000 ingrandimenti, il DNA, le molecole, e la scienza è fatta così ed è stato un momento importantissimo che ha cambiato il volto di tante scienze, ma anche questo volto, credo, abbia avuto il suo momento di rimbalzo e oggi c'è un grandissimo ritorno, non solo della valorizzazione delle collezioni da un punto di vista di terza missione, che oggi è diventato addirittura un parametro sul quale le università sono valutate dal Ministero, quindi non è un di più, e abbiamo tre missioni da compiere, didattica, ricerca e public engagement, impatto sul territorio, chiamiamola come vogliamo la terza missione. Ecco, in quest'ottica c'è questo grande ritorno e anche il ritorno dell'uso scientifico e didattico, perché ci siamo accorti che, soprattutto, sfruttando anche le nuove tecnologie, le collezioni, magari rese anche digitalizzate, sfruttando le potenzialità della realtà virtuale, possono diventare un fantastico strumento anche didattico e anche di avanzamento della ricerca. Non ultimo, l'interdisciplinarità, che sempre di più si sviluppa, per cui all'interno di un'operazione come la riapertura, la valorizzazione alla grande, lasciatemi dire, di un museo come questo non è solo più questione di chi si occupa di animali, di gemme, di antropologia, ma diventa anche una questione di chi si occupa di comunicazione. Ovviamente l'information technology, la digitalizzazione, oggi è fondamentale, di chi si occupa in generale di quelle aree dell'umanesimo, che un passato erano rimaste fuori e che oggi invece entrano prepotentemente. Quindi una musealità veramente palestra di interdisciplinarità e di creazione di quei ponti tra le scienze di cui ancora oggi, forse ancora più oggi, abbiamo bisogno per il progresso. Quindi un momento che non è solo la riapertura di un bellissimo museo, di un bellissimo palazzo nel centro di Torino, anche l'occasione di guardare avanti per una rinascita o una crescita di una rinascita già iniziata qualche anno fa, perché ormai siamo veramente vedendo l'onda che credo possa avere grandi prospettive e chiudo sottolineando un dato che mi ha colpito molto in questi anni, in cui ho avuto una visione più generale dell'Accademia nel mio ruolo, il grandissimo interesse in questo tipo di iniziative delle giovani generazioni di scienziati e di scienziate, che è il nostro futuro e che oggi, quando faccio un esempio, ne abbiamo lanciato un finanziamento di Ateneo per iniziative di public engagement di terza missione, abbiamo avuto più di 600 progetti. La maggioranza di questi da ricercatori e ricercatrici intorno ai 35-40 anni. Cioè, le nuove generazioni credono, forse più delle generazioni che le hanno precedute, in questo e quindi su questa base non possiamo che essere ottimisti e guardare al futuro con grandi aspettative nei confronti di tutto quello che potrà avvenire in questo campo. Grazie Andiamo la coreografia Do la parola No, ti do la parola soltanto Do la parola quindi al direttore della classe di scienze fisiche che in qualche modo è stato un po' l'anima curatrice di questa iniziativa da parte dell'Accademia e quindi ti do anche la presidenza e ti affido, le tue mani sapienti, la conduzione della cosa. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a questa occasione. Io farò un brevissimo intervento per lasciare spazio a quelli che sono i veri relatori e quindi vediamo un po' se riesco a farlo funzionare Devo puntare là forse Su questo? Sullo schermo Ecco, finalmente ci sono riuscito Scusate Allora, il programma di oggi si articola in una serie di interventi che hanno come finalità quello che potrebbe essere una sorta di sottotitolo Il museo ritrovato in qualche modo legato all'apertura, alla riapertura del museo così come è stata presentata dal Rettore e dal Presidente Mori La scelta di concentrarsi su queste collezioni e non su altre ovviamente è legato al fatto che in qualche modo nella storia che verrà recostruita nei diversi interventi queste collezioni sono diventate un patrimonio dell'Ateneo grazie a un lavoro oscuro che ha avuto degli alti, dei bassi, dei momenti di successo e dei momenti di stanca a partire direi da un bel po' di tempo fa sempre se riesco ad andare avanti Ecco, grosso modo quello che vediamo qui salvo la sovrapposizione di qualche scritta è una storia che comincia agli inizi del Settecento con le prime collezioni scientifiche e antiquaria dei Savoia nell'attuale Palazzo del Rettorato segue pochi anni dopo un progetto di museo nella Regio Università sempre nel Palazzo del Rettorato poi alcune di queste collezioni sono addirittura itineranti tant'è che si hanno nei documenti peraltro ci sono ottimi saggi e relazioni che illustrano molto in dettaglio tutte queste vicende ci sono tracce, dicevo, di contratti di affitto in diversi palazzi di Torino dove queste collezioni stazionavano temporaneamente e a fianco a queste iniziative propriamente universitarie nel Collegio dei Nobili, come ricordava il Presidente Mori nasce sulla linea delle donazioni dei soci della società privata torinese quella che diventerà poi l'Accademia delle Scienze nasce un parallelo nucleo di collezioni naturalistiche sensolato e non solo perché pensiamo anche a tutte quelle di ambito umanistico, storico e quant'altro il primo grosso cambiamento si ha all'inizio dell'Ottocento quando in quello che era il dominio napoleonico si ha l'unificazione definitiva tra le collezioni universitarie e le collezioni dell'Accademia 1805 l'editto di Napoleone I e il passaggio veramente importante successivo è il progetto dei musei universitari di Quintino Sella agli inizi degli anni 70 quindi siamo già unità d'Italia un personaggio straordinario come Quintino Sella vede la possibilità di individuare una sede unificante per quelli che sono i musei universitari passano un tot di anni e finalmente tra il 76 e il 78 avviene effettivamente il trasferimento a Palazzo Carignano con l'insegnamento nei piani nobili del Palazzo di tutte le collezioni naturalistiche quelle che sostanzialmente di cui parleremo oggi c'è poi un secondo trasloco che è stato citato quello degli anni 30 del secolo scorso in cui le collezioni vengono poi spostate in questo palazzo negli istituti universitari che avevano sede in questo palazzo l'istituto di mineralogia l'istituto di petrografia l'istituto di anatomia comparata e di zoologia le uniche collezioni che non si spostano sono le collezioni paleontologiche che rimangono a Palazzo Carignano per motivi logistici e di delicatezza delle collezioni alla fine degli anni 70 del secolo scorso l'importante iniziativa e se posso dire anche la consapevolezza da parte dell'Ateneo di non essere in grado di garantire la custodia adeguata e lo sviluppo di queste collezioni insieme a quella che è l'idea di sviluppare dei musei regionali ecco che nasce il museo nasce prima c'è la costituzione del museo nel 78 e nell'80 la convenzione che stipula la concessione in gestione di queste collezioni universitarie al museo con i grandi interventi che comportano lo spostamento degli istituti dal Palazzo la ristrutturazione che permette poi l'apertura prima temporanea e poi permanente del museo regionale devo dire oltre a ringraziare il museo e in particolare il suo direttore Marco Fino per questa ospedalità in questa occasione voglio citare solo una persona che non può essere presente Elena Giacobino che è stata in questi ultimi decenni una delle persone che più ha seguito quello che erano i fasti e purtroppo i nefasti fino conseguenti all'incidente del 2013 e anche oggi dietro le quinte il lavoro che tutti i conservatori tutto il personale del museo ha fatto per vederci qui vederci qui oggi dietro di noi abbiamo l'arca e è uno dei simboli di questa nuovo allestimento del museo ma è anche almeno per altri aspetti una sorta di déjà vu un richiamo forse non ne sono sicuro ma mi piace pensare che sia un richiamo a chi aveva parlato dell'arca in precedenza torniamo indietro al 1876 quando si si realizza nell'arco di un paio d'anni lo spostamento delle collezioni dal palazzo che vediamo al margine a destra con le colonne con i bianchi che è il palazzo del collegio dei nobili a palazzo Carignano e i quotidiani dell'epoca qui la gazzetta piemontese vedete che il 20 maggio dice i lavori si stanno accelerando quasi completando e c'è una felicissima idea che è quella di realizzare un ponte tra gli spigoli dei due palazzi per congiungere in maniera efficace e favorire lo spostamento di quelle collezioni una sorta di quiz di simile arrivo degli animali dell'arca di Noè allora come come studente dell'università di Torino che ha avuto la fortuna il privilegio di fare le esercitazioni dei miei corsi universitari utilizzando queste collezioni tutte le volte che passo in quell'angolo mi immagino di vedere questo ponte questo ponte che collega i due palazzi ha un simbolo di spostamento di quelle collezioni ma è anche un simbolo che possiamo usare oggi per questa fase che speriamo possa completarsi rapidamente e che vede il territorio e non solo gli specialisti riappropriarsi di questo museo e con questo darei direttamente la parola al primo intervento che è a cura di Chiara Mancinelli e Elena Borgi che purtroppo è malata e non può essere qui oggi che ci inquadra appunto quel palazzo che abbiamo visto prima il palazzo del collegio dei nobili come vuoi grazie mille Daniele oggi le elene sono assenti ma cercheremo di sostituirle degnamente questo intervento appunto è stato preparato dalla sottoscritta con la dottoressa Borgi che è la responsabile della biblioteca e dell'archivio dell'accademia e nostro compito oggi è quello di cercare di portarvi all'interno del palazzo in cui noi abbiamo il privilegio di lavorare per appunto capire quello che in parte ha già spoilerato il presidente nel suo intervento iniziale cioè il fatto che il palazzo dell'accademia delle scienze sempre che riesca ad andare avanti il palazzo dell'accademia delle scienze è stato un contenitore a lungo di molte collezioni ma non casualmente cioè il fatto che molte collezioni siano passate dal palazzo dell'accademia delle scienze è proprio dovuto in parte al fatto che l'accademia stava lì come già stato detto in precedenza la nostra istituzione è un'istituzione che ha una lunga storia nasce come società privata nel 1757 diventa accademia nel 1783 grazie alle leggi patenti che le vengono fornite da Vittorio Medeo III di Savoia il quale finalmente riesce a dare un carattere istituzionale appunto a questa società privata di studi che era stata fondata da questi tre signori che vedete rappresentati come in realtà addirittura con una foggia da antichi romani ma senz'altro come signori di una certa età attempati ma che quando hanno fondato l'accademia erano dei ragazzini cosa che appunto ci auspichiamo in parte possa tornare la gioventù all'interno della nostra istituzione al centro vedete la grange che non ho bisogno di presentarvi un grandissimo matematico piemontese alla sua destra Cigna è un medico fisiologo e alla sua sinistra Saluzzo un chimico questi signori hanno l'idea di fondare questa istituzione e i soci dell'accademia si danno da subito un motto Vittorio Amedeo III concede all'accademia il palazzo in cui siamo e i soci decorano la sala che probabilmente molti di voi conosceranno che è la sala dei mappamondi proprio a propria immagine e somiglianza sulla porta d'ingresso vedete questa decorazione questa decorazione è il motto dell'accademia sulla sinistra vedete la Veritas sulla destra quindi con lo specchio allo specchio non si può mentire e sulla destra Utilitas quindi gli studi degli accademici fin da subito devono essere degli studi che in qualche maniera possano servire alla società non sono fini a se stessi ma hanno un'utilità queste queste figure le ritrovate nel nostro logo ancora oggi nelle spillette che gli accademici portano eccetera ma veniamo al palazzo come vi dicevo quando con le regge patenti la sede dell'accademia diventa il palazzo del collegio dei nobili il palazzo del collegio dei nobili è quello che voi vedete in via accademia delle scienze che ovviamente non si chiamava così allora e diventa un palazzo come vi dicevo contenitore nasce come scusate ma ho qualche di ah sulla ah grazie allora contenitore contenitore di che cosa adesso questa che voi vedete è una sezione del palazzo vista da via Maria Vittoria quindi perché naturalmente è una sezione fatta per noi e ovviamente abbiamo la nostra prospettiva perché l'accademia delle scienze in questo momento è nell'ala che sta su via Maria Vittoria la prima istituzione che arriva in accademia delle scienze nel palazzo del collegio dei nobili è l'accademia delle scienze voi vedete la sezione della sala dei mappamondi e delle sale retrostanti che sono altrettanto belle quando è nata l'idea di fare questo convegno avevamo anche pensato di farlo in accademia perché non sapevamo come aveva detto il presidente se l'apertura avrebbe coinciso o meno sapendo poi però dell'apertura abbiamo pensato che è vero la nostra sala è una sala bellissima ma era un'occasione troppo ghiotta quella di portare le persone qua dentro in questo museo appena riaperto e di questa bellezza eccezionale ringrazio ancora Marco Fino che ci ha permesso questa cosa e quindi per chi di voi non è mai stato in accademia dovrà soltanto immaginare quello che io racconto ma naturalmente poi vi aspettiamo per tutte le occasioni che ci saranno oltre all'accademia delle scienze la prima istituzione diciamo che arriva è il museo di scienze di cui vi parleremo a lungo oggi poi la specola la specola cioè l'osservatorio astronomico poi il museo egizio arriverà anche forse la perfetto il museo egizio e infine il museo di antichità e la galleria sabauda abbiamo cercato di posizionarli più o meno dove erano torniamo alla storia ecco questa immagine che voi vedete è un'immagine del collegio dei nobili come avrebbe dovuto essere in realtà il collegio dei nobili costruito tra il 1675 e più o meno il 1773 non avrà questa forma non sarà totalmente compiuto così come lo vedete qua però questa è una stampa del 1711 in cui si immagina il palazzo nella sua completezza i progetti erano molto più grandi non vengono rispettati il palazzo viene costruito come vedete in quella stampa sulla sinistra cioè il piano nobile si ferma all'angolo con piazza Carignano ma i piani superiori non esistono ancora vedremo perché verranno poi costruiti oggi li vediamo e verranno costruiti per uno scopo ben preciso quindi vedete la differenza tra quello che è il palazzo oggi e quello che era il palazzo a fine a fine settecento e questa è la nostra bellissima sala di cui vi parlavo nel 1788 89 sul palazzo viene costruita la specola si decide quindi di impiantare un osservatorio astronomico che ancora oggi è in parte la specola così come la vedete in queste immagini sarà abbattuta durante la guerra rimane soltanto il primo piano di questi tre piani dell'accademia se oggi alzate gli occhi passando da via Maria Vittoria effettivamente la vedete ancora tra chi si occupa della specola in quegli anni troviamo il famosissimo Giovanni Plana e gli accademici scelgono di portare lì tutta la strumentazione astronomica per ispirarsi alla costruzione della specola mandano l'architetto feroggio a Milano nel palazzo di Brera a prendere ispirazione per la costruzione allora come oggi si cerca sempre di prendere spunto da quello che è stato fatto dalle buone pratiche questa questa specola rimane in funzione fino a quando poi a un certo punto non viene spostata come noto a Palazzo Madama dove rimarrà fino poi allo spostamento a Pino Torinese quando è che il palazzo si trasforma realmente il palazzo si trasforma realmente quando arriva una collezione meravigliosa che è la collezione Drovetti la collezione che dà vita a quello che noi oggi conosciamo tutti benissimo che è il museo egizio nel 1824 apre il museo egizio c'è bisogno di spazi arrivano questi migliaia di reperti che Drovetti è riuscito a vendere al sovrano questi reperti vanno sistemati sono sistemati nel palazzo dell'accademia non a caso c'è un grossissimo intervento degli accademici di persuasione sul sovrano per poter acquistare questa collezione era una collezione molto cara era una collezione che il re di Francia aveva rifiutato perché troppo cara gli accademici convincono il re ad acquistarla la storia è molto lunga non ho il tempo di parlarne oggi però capiscono che ha un valore altissimo e il palazzo inizia la sua trasformazione quindi il palazzo viene costruito vengono costruiti i piani alti all'angolo con via con piazza Carignano e viene modificato il portale d'ingresso sul quale viene apposta una scritta che vedete ancora oggi celebrativa proprio di questa modifica del palazzo adesso se voi alzate gli occhi entrando da via accademia delle scienze 6 trovate la scritta che appunto dice che nel 1824 entra nel palazzo questo nuovo museo del museo egizio anche su piazza Carignano l'edificio si amplia e gli ampliamenti e quindi assume sostanzialmente l'effigia che è adesso e all'interno del palazzo vengono posizionati questi magnifici reperti che ancora oggi sono ovviamente visitabili il museo egizio ovviamente adesso non è soltanto la collezione drovetti però diciamo che la collezione drovetti come noto ha dato un buon impulso e ha numericamente un valore enorme oltre al fatto che poi è una collezione molto amplia ma io non sono un egittologa quindi meglio se non mi addentro in queste cose vedete l'immagine questa sala che voi vedete sulla destra è la sala sotto sala dei mappamondi il piano terra del palazzo diventa in parte sede della collezione che in realtà viene distribuita lungo tutto il palazzo viene distribuita nel cortile in questo momento stiamo lavorando e vi faccio un'anticipazione con il museo a una piccola mostra che verrà aperta a fine aprile e che per ragioni logistiche vedrà lo spostamento delle statue di nuovo nel latrio e nel corridoio che porta all'Accademia delle Scienze e quindi per un po' entrando nel palazzo si avrà la sensazione si potrà provare la sensazione che probabilmente avevano provato i primi visitatori nel 1824 in realtà il palazzo si amplia anche su via Maria Vittoria quella che voi vedete è un'intera ala nuova dell'Accademia delle Scienze quella che noi adesso dove noi adesso all'ultimo piano abbiamo il nostro magnifico archivio storico che conserva le carte che ci permettono di raccontare tutte queste storie di cui in parte vi sto facendo partecipi il museo di antichità anche il museo di antichità viene trasferito in Accademia nel 1832 le antichità sabaude vengono unite alle antichità egizie che già hanno nel palazzo nel 1940 si separano nuovamente queste collezioni e le collezioni del museo di antichità trovano spazio all'interno di quella sala che avete visto prima quindi la sala che ospitava le prime statue del trovetti diventa la sala ex antichità che è ancora conosciuta così io quando sono arrivata in Accademia mi parlavano di ex antichità non sapevo bene dove fosse ma poi ho capito che era questa sala qua per ultima come vi ho anticipato prima arriva la galleria sabauda nel 1832 viene istituita la reale galleria collocata a palazzo madama trasferita nel palazzo dell'accademia nel 1865 dove rimane fino al un po' prima del 2014 quando poi viene degnamente trasferita in quella magnifica ala di Palazzo Reale dove si trova ancora adesso questa è un'immagine famosissima che penso che tutti voi conosciate in questo momento è in comodato d'uso al Museo Egizio la trovate nella sezione della storia del Museo Egizio ed è un po' un'immagine emblematica di quello che vi sto raccontando oggi vengono rappresentati sulla sinistra gli accademici gli studiosi che stanno studiando i reperti appena arrivati siamo tra l'altro in un momento in cui l'egittologia non è quello che sta nascendo l'egittologia quindi stiamo di fronte a delle cose sconosciute in una lingua sconosciuta quindi rispetto alle quali c'è bisogno di moltissimo studio Champollion arriva tra i primi a vedere questi questi reperti diventa socio dell'accademia ovviamente sulla destra vedete i visitatori del museo quindi delle anni rappresenta esattamente quelle che in quel momento storico erano le due grandi anime all'interno del palazzo dell'accademia delle scienze oltre all'accademia e ci sembra una la vediamo la conosciamo ma ogni volta ci sembra particolarmente interessante ritornare in questa visione storica non vi parlo di questo in realtà abbiamo fatto un escurso storico in cui il museo in cui siamo adesso le collezioni del museo in cui siamo adesso si inseriscono temporalmente arrivano anche prima degli altri musei ma di questa storia parleranno molto meglio e con molta più competenza chi arriverà dopo di me e quindi insomma le tappe le abbiamo già viste illustrate dal professor Castelli e vi risparmio questa slide vi voglio soltanto soffermare l'attenzione su sui racconti che come quanto evidenziato prima dal professor Castelli si trovano nei giornali o nelle guide di Torino che raccontano il palazzo la trasformazione del palazzo le decorazioni che stanno all'interno del palazzo vengono modificate con l'arrivo di varie collezioni qui si racconta del fatto che alcune gallerie del museo venissero dipinte con un grande elenco di animali che trovate sulla destra di questa cosa qui se ne è perso un po' traccia perché Schiaparelli direttore del museo negli anni nell'ottocento fino ottocento fece cancellare le decorazioni con la ristrutturazione iniziata nel 2014 cioè conclusa scusate nel 2014 2015 queste decorazioni sono venute nuovamente alla luce e le potete ammirare nella sala dei sarcofagi del museo egizio lassù in alto avete la descrizione che era stata fatta all'interno di un volume su Torino che appunto racconta che uscendo dalle sale dell'accademia ci si trova di fronte alle immagini degli animali e ai reperti adesso conservati io direi che mi posso fermare qui vi ho fatto entrare e uscire dal palazzo e lascio la parola a chi dopo di me parlerà invece delle collezioni grazie grazie dal programma abbiamo adesso il professor Pietro Passarendan Trev che ci illustra il museo di zoologia e di anatomia comparata non so se ti va bene usare questo grazie buon pomeriggio a tutti a tutte abbiamo già visto prima diciamo i prodromi della nascita del museo di zoologia e conseguentemente anche di quello di anatomia comparata e a grandi linee i vari spostamenti è stato anche detto che i musei sono nati in funzione di ricerca per supporto alla ricerca in funzione didattica ma almeno per quanto riguarda il museo di zoologia fin quasi dall'inizio una forte componente è stata anche quella dell'apertura a pubblico delle sale questo è molto importante da tenere presente ed è importante conoscere per poi poter valorizzare quindi lo scopo anche della mia chiacchierata che segue è proprio quello di far conoscere quella che è stata la storia del museo di zoologia come è stato formato da chi è stato formato e perché è stato formato molte cose di cui parlerò si ritrovano nelle sale nelle due sale che stanno davanti a me e quindi dietro a voi e quindi sarà anche possibile fare rapidamente una verifica di quanto viene detto teniamo anche presente che all'epoca il museo di zoologia come credo la maggior parte dei musei attivi a Torino all'epoca potevano essere considerati come dei musei nazionali Torino era la capitale dello Stato l'università di Torino era la più importante università dello Stato e conseguentemente i musei ivi presenti erano anche quelli dello Stato per cui non ci si stupisce come l'attività dell'università e degli universitari che tra l'altro per un lungo periodo di tempo sono stati tutti accademici delle scienze quindi anche questa unione stretta fra università e accademia era nelle stesse persone per cui è anche facile che non si sapesse poi bene se chi raccoglieva raccoglieva per l'università o raccoglieva per l'accademia fino a quando opportunamente è stato deciso di fare un tutt'uno allora proprio per entrare nel vivo va detto che tutte le collezioni universitarie che sono confluite poi nel museo regionale di scienze naturali sono importantissime dal punto di vista storico scientifico c'è stato un periodo in cui il museo di zoologia di Torino veniva considerato uno dei migliori e dei più importanti d'Europa quindi non detto ovviamente dai torinesi oppure sono importanti anche per la storia per la storia naturale piemontese anche questa è una cosa importante in fondo la valorizzazione di quanto veniva fatto nell'università e nell'accademia qui a Torino per cui abbiamo materiali provenienti da viaggi è stata praticamente un'attività fin da quasi prima della fondazione del museo vedremo poi successivamente alcune diapositive quella di far di allestire viaggi per arricchire le collezioni museali oppure materiali che venivano inviati dai consoli sardi allora presenti un po' in tutto il mondo i quali appunto considerando che Torino era il museo nazionale si davano da fare per comprare per far raccogliere animali organismi vari da mandare a Torino per arricchire le collezioni e questi viaggi sono quelli che sono descritti adesso in questa ultima versione di apertura del museo qui nella cosiddetta arca oppure materiali provenienti da collezioni reali allora lo scambio di animali soprattutto uccelli ma anche grossi felini erano più o meno sempre presenti nelle corti quando questi venivano a morire venivano regalati al museo di Torino e quindi entravano a far parte delle collezioni e venivano anche presentati al pubblico oppure ancora materiali donati raccolti o studiati dai più celebri naturalisti dell'epoca pensiamo che nel 1805 il grande Georges Cuvier uno dei padri della zoologia è passato da Torino per studiare i pesci della collezione nostra quindi solo per citarne uno ogni collezione comprende un elevato numero di tipi i tipi sono quegli esemplari su cui gli autori hanno fondato i nomi delle nuove specie da loro descritte allora è una ricchezza enorme che richiama ricercatori da tutto il mondo quella di poter avere una quantità di tipi enorme pensate solo un esempio il più comune avvoltoio africano è stato descritto da Tommaso Salvadori ornitologo del museo di Torino prima nessuno l'aveva scientificamente stabilito e gli aveva dato un nome che fosse valido per tutto e questo è ancora oggi ovviamente valido molti oggi sono anche importanti dal punto di vista anche della genetica della conservazione perché purtroppo appartengono a specie che sono state estinte o che corrono grave pericolo di estinzione o che sono scomparse per esempio dal Piemonte ci sono qui le ultime linci gli ultimi gipeti e gli ultimi lupi cacciati in Piemonte prima del loro ritorno o della loro re-inmissione non ve li commento tutti ovviamente è semplicemente un elenco di quelli che sono stati i direttori del museo di zoologia e poi di anatomia comparata sulla destra fino agli anni in cui poi il museo è stato ceduto e incomodato alla regione Piemonte ecco molti di questi sono personaggi fondamentali nella storia della zoologia mondiale e tra l'altro mi piace ricordare il secondo qui indicato Michele Spirito Giorna che è il primo titolare della cattedra di zoologia qui a Torino e forse è ancora dibattuta un po' la cosa forse la cattedra di zoologia di Torino è la prima cattedra italiana di zoologia è un po' dibattuto se è quella di Napoli prima o quella di Torino ma probabilmente è quella di Torino per poco tempo ma poco importa ma solo per dire che è antica nel tempo i viaggi i viaggi cominciano con Vitaliano Donati Vitaliano Donati che è rappresentato nell'arca viene inviato dal re per raccogliere antichità egizie antichità varie prodotti naturali come si indicava allora che fossero utili per i musei torinesi suo è un viaggio sfortunato morirà durante il viaggio a Torino arriverà del materiale sia per quanto riguarda la zoologia sia per quanto riguarda la botanica sia le antichità qui è ancora rappresentato un vasetto con i camaleonti raccolti da Donati nel suo viaggio che sono appunto in uno dei primi scomparti dell'arca il vero fondatore del museo è però Franco Andrea Bonelli lui inizia la sua attività nel periodo dell'occupazione francese del Piemonte è un personaggio curioso di bassa statura era alto un metro e quaranta circa però di estrema energia tanto che quando Cuvier gli proporrà la cattedra di zoologia lui andrà sostanzialmente a prendersela a Parigi partendo a piedi da Torino impiegando dieci giorni arrivando a Parigi traversando il Monte Bianco forse erano zoologi di altra epoca quelli di cui vi sto parlando comunque Bonelli è quello che ha riorganizzato il museo in modo veramente scientifico lui era seguace delle teorie di Lamarck e quindi cambia un po' la visione generale della zoologia torinese ma è anche molto attento agli aspetti di divulgazione scientifica a Bonelli dobbiamo fra le altre cose una meravigliosa brochure che è conservata all'Accademia delle Scienze è l'unica copia che io conosco dove sono rappresentati gli animali che lui riteneva più particolari del museo ed è una litografia sono delle litografie a colori in epoca in cui la litografia era appena stata introdotta a Torino quindi sono stati definiti gli incunaboli della litografia torinese la giraffa rappresentata sulla destra è la giraffa che c'è qui subito dietro di voi e quindi è ancora perfettamente visibile non solo ma anche perfettamente riconoscibile e poi gli altri sono altri animali che evidentemente erano nella mente di Bonelli interessanti per far conoscere alla popolazione che accedeva comunque alla visita del museo a Bonelli succede Giuseppe Genè che era stato chiamato dal re da Milano da Pavia e a Genè si deve l'inizio dell'esplorazione della Sardegna già anche Bonelli aveva incominciato non personalmente ma a ricevere materiale sardo e a studiarlo con Genè questo viene potenziato Genè descrive il falco della regina qui sulla destra che ovviamente è fortunatamente una specie ancora presente in Sardegna e a lui dobbiamo tante cose lui non era l'amarcano era fissista quindi però ha avuto l'intelligenza di non disfare il museo che aveva fatto Bonelli ma anzi di potenziarlo a Genè dobbiamo anche lo studio di molti materiali raccolti in Sardegna da Alfonso della Marmora che da Alberto scusate della Marmora uno dei fratelli la Marmora che era stato mandato in Sardegna perché compromesso nei morti del 21 e essendo un ufficiale del Genio ha studiato la Sardegna la punta alla Marmora è la punta più alta della Sardegna e prende il nome da lui qui in una spiritosa caricatura di Roberto D'Azeglio dove lo vediamo nella sua attività di ricercatore ha mandato al museo di Torino una quantità enorme di animali e fra questi noi possiamo vedere qui rappresentato questo meraviglioso l'epidottero sardo che è il papigliospiton che è una farfalla endemica della Sardegna e della Corsica descritta da Genè e quindi scusate sì descritta da sì mi pare da Genè o da Bonelli insomma comunque che qui assieme ad altri insetti sardi serpi sarde e materiale tutto che è presente grazie a Dio negli archivi del Dipartimento il viaggio in Sardegna è stato importante anche per conoscere non solo quanto c'era fuori del nostro paese ma anche quanto c'era all'interno del nostro paese un altro viaggio tra l'ottobre del 39 e il maggio del 40 è quello della regia fregata la regina le finanze del regno sardo non sono mai state floride per cui allestire una nave soltanto per ricerche scientifiche come era stato fatto in Francia in Inghilterra in altri paesi non era possibile per cui le missioni generalmente erano delle missioni diplomatiche militari e scientifiche quindi imbarcavano oltre allo stato maggiore della nave imbarcavano se necessario dei diplomatici e dei naturalisti sulla regina furono imbarcati due naturalisti casaretto come botanico e caffer come zoologo e la regina partì per fare il giro del mondo in realtà arrivato all'altezza di Capo Horn prese una tempesta spaventosa che la disalberò ne rovinò lo scafo e dovette interrompere la cosa non per questo però mancarono i risultati e obiettivamente abbiamo un elevato numero di esemplari che sono presenti nel museo tra l'altro a bordo della fregata alla regina c'era anche il principe Eugenio di Savoia in viaggio di istruzione sarà poi colui che diventerà il capo della marina sarda più avanti nel tempo quindi anche viaggi sempre utili per varie cose arriviamo a Filippo De Filippi altro personaggio ben noto diventerà poi uno dei più fieri prima di sono evoluzionisti e seguace della teoria di Darwin almeno in parte a lui si deve la fondazione del museo di anatomia comparata che prima non era non aveva avuto una dignità museale con lui invece avrà una dignità museale soltanto poi più tardi con Lorenzo Camerano all'inizio dello scorso secolo si avrà la stabilizzazione anche dal punto di vista direi legale qui c'è l'uomo e le scimmie e la sua lezione pubblica in cui aderisce in parte alle teorie darwiniane ecco De Filippi parte a bordo dopo aver compiuto un viaggio in Persia di cui vi parlerò successivamente parte a bordo della regia Piro Corvetta Magenta al solito allestita per istruzione militare per la parte diplomatica a quel viaggio si devono i primi rapporti ufficiali col Giappone e come missione scientifica ci sarà a bordo De Filippi ci sarà Enrico Ilergiglioli di Firenze e ci sarà un preparatore che gli aiuterà nelle cose le collezioni sono veramente straordinarie e moltissimo materiale è presente qui a Torino purtroppo De Filippi muore a Hong Kong durante il viaggio e quindi non può completare quello che è il suo programma di raccolte programma di raccolte che però verrà completato in parte da Gilioli che poi verrà qui a Torino a mettere a posto a sistemare le collezioni altri altri viaggi sempre rappresentati nell'arca sono quelli del Duca degli Abruzzi che come noto è stato un importantissimo esploratore ha viaggiato al Polo Nord ha viaggiato al Ruvenzori ha viaggiato al Caracorum quasi arrivato alla cima del K2 e ha raccolto non particolarmente numerosi animali ma quelli che sono stati raccolti sono stati mandati qui a Torino e fra questi importante e sicuro c'è un leopardo del Ruvenzori che è un tipo su cui è stata descritta una sottospecie che è dibattuta fra autori inglesi e il nostro autore italiano camerano ma che probabilmente per questioni di priorità è da attribuirsi al camerano stesso altri animali vi dicevo provengono dalle collezioni reali o dai giardini zoologici reali qui ho voluto mettere in alto questa bella litografia di festa con Fritz l'elefante di Stupinigi che è quello che vediamo nella galleria iniziale di cui c'è la pelle e lo scheletro e che è vissuto 25 anni alla palazzina donato dal vicere d'Egitto quando morì venne mandato al museo e mirabilmente tassidermizzato da Francesco Comba oppure una quantità enorme di animali provenienti dallo zoo dei giardini reali a Torino tutti i giardini reali sottostanti i bastioni erano un enorme zoo dove Vittorio Emanuele II amava raccogliere quantità di animali esotici e qui vediamo una bella fotografia in cui si vedono i giardini reali con la mole ancora non terminata questa è la palazzina che c'è su Corso San Maurizio laggiù c'è via Rossini e qui tutti in mezzo tutte le gabbie degli animali le voliere e le palazzine per gli elefanti e le giraffe uno zoo veramente di gran livello possiamo definirlo fra forse il più importante giardino zoologico italiano dell'epoca e anche alla Mandria Vittorio Emanuele II aveva un giardino di acclimatazione e qui è fotografata una delle due stambeccaie che ancora sono presenti vicine al castello della Mandria dove Vittorio Emanuele II allevava gli stambecchi incrociandoli con capre allora il tutto è ma allora era così tra l'altro tutto fatto sotto il controllo dell'università sperando di ottenerne in quantità tale da poter rimpinguare il capitale di stambecchi delle Alpi fortunatamente la cosa andò avanti per un po' ma di reintroduzioni non ce ne furono e quindi gli stambecchi si salvarono da questa situazione e veniamo a Michele Lessona Michele Lessona personaggio ben noto importante che non ha bisogno di presentazioni fu nell'arco della sua carriera in Persia con De Filippi e qui vediamo la fotografia questo è Lessona vediamo la fotografia in Persia dove raccolsero moltissimi animali che arricchirono le collezioni del museo e a Michele Lessona si deve tra l'altro la traduzione di molti lavori di Darwin dall'inglese all'italiano e divenne un personaggio che appunto è molto particolare molto ben conosciuto vado avanti in fretta perché ce n'è ancora questo è già stato visto quindi non aggiungo nulla ma era semplicemente messo per non solo attestare la presenza del museo nelle sale dell'Accademia delle Scienze del palazzo dell'Accademia delle Scienze dove rimase fino a circa il 78 ma semplicemente per far vedere appunto come già stato ricordato la presenza numerosa del pubblico questo è uno spaccato bellissimo abbiamo un dragone abbiamo un personaggio in uniforme abbiamo una dama abbiamo un uomo che si vede chiaramente provenire dalle campagne piemontesi che guardano estasiati gli animali che possiamo riconoscere tranquillamente il bue muschiato e il nilgao ci sono nelle vetrine di là l'elefante e lui l'abbiamo già citato e quindi gli animali che sono li ritroviamo poco distante da qui ecco poi il trasloco in palazzo carignano queste sono le planimetrie di palazzo carignano con la disposizione del museo di zoologia nelle sale qui vediamo zoologia questa è la grande aula su piazza carlo alberto e qui c'erano i grandi mammiferi elefanti eccetera questa ancora zoologia qui tutta la parte di zoologia qui la parte di entomologia e qui i laboratori perché questo era in pari tempo museo e università quindi i laboratori per i ricercatori l'aula si è chiamata scuola di zoologia mentre questa era quella di mineralogia di qua c'era tutta la mineralogia e qui ancora al piano superiore abbiamo dei laboratori e non ho messo per brevità il piano terreno dove c'era dove c'era l'alloggio del direttore perché allora i direttori erano alloggiati in museo tanto all'accademia delle scienze quanto a palazzo carignano avevano l'alloggio in museo arriviamo al momento in cui i musei unificatisi in palazzo carignano diventano i musei di storia naturale zoologia e anatomia comparata mineralogia geologia e paleontologia e viene anche stilato un regolamento nel 1878 al momento della riapertura c'è un regolamento dei musei della regia università dove si chiarisce che i direttori sono tre ma tutto è stabilito e tutto è precisato in vista sempre non solo dell'attività di ricerca didattica ma anche dell'attività di ostensione per il pubblico ecco questo è importante e ti ringrazio che mi hai segnalato un refuso dovuto a precedenti situazioni quello che trovo incredibile è che dal giorno dell'apertura nel giugno 1878 a tutto il dicembre 1879 hanno visitato i musei oltre 190.000 persone su una popolazione torinese di circa 235.000 abitanti a me pare a me pare che questo sia incredibile voglia dire veramente l'interesse che i torinesi e i piemontesi allarghiamolo anche alle periferie hanno dimostrato per il museo per i musei di storia naturale nella fattispecie ma in particolare per il museo di zoologia l'hanno sempre sentito come un qualcosa parte della città e sono sempre affluiti al pubblico credo che chi ha la mia età ricordi quando da bambino veniva a visitare il museo di zoologia entrando esattamente da dove si entra adesso e vedendo quello che c'era allora a me è sempre rimasta un ricordo di questo che poi ho ritrovato quando ho avuto la fortuna di venire a lavorare qui dentro per arrivare in fretta alla fine la ricchezza delle collezioni universitarie perché poi dirlo è un conto verificare i dati è un altro collezioni terriologiche cioè sostanzialmente di mammiferi circa 6.000 esemplari collezioni ornitologiche circa 21.000 esemplari collezioni erpetologiche circa 10.000 esemplari erpetologiche serpenti anfibi eccetera collezioni teologiche pesci eccetera circa 11.000 esemplari collezioni di anatomia comparata circa 4.000 pezzi e alcune centinaia di vasi in alcol ecco mi pare che i numeri diano l'idea di che cos'è questo museo della sua importanza e della necessità assoluta di mantenerlo funzionale anche per tutti i ricercatori che come è capitato a me o altri hanno utilizzato le loro collezioni per lo studio ecco rapidamente questa è un'immagine del museo negli anni 50 nell'ospedale San Giovanni Antica Sede ecco la corsia là in fondo sulla destra gli animali messi molto alla rinfusa però comunque era aperto al pubblico riconosciamo sempre la solita giraffa di cui parlavo prima questa è uno scorcio del museo di zoologia negli anni 70 quando sotto la direzione del professor Parenti rimettemmo a posto il museo per riaprirlo al pubblico ottenemmo dei soldi dei fondi cambiamo le vetrine centrali e riallestimmo l'intera collezione riaprendola poi al pubblico e rapidamente questi sono tutti animali appartenenti ai maespe cestinte che arricchiscono le collezioni del museo non sto a entrare nei nomi che sono qui presenti altri che vedete qui rappresentati e infine la balenottera comune che è presente al centro della sala con uno dei due disegni che vennero realizzati in loco al momento del suo spiaggiamento questo uno è qui a Torino in dipartimento l'altro questo è al museo di Nizza e sono due disegni che danno esattamente le indicazioni della nostra balenottera che devo dire anche straordinaria dal punto di vista del montaggio dello scheletro vi ringrazio grazie grazie e dare adesso la parola molto volentieri alla professoressa Claudia Palestrini perché sul museo di zoologia ci dettaglia informazioni su quelle che sono gli invertebrati le collezioni degli invertebrati vi lascio questo grazie 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 molte buon pomeriggio a tutti allora il mio scopo oggi è di parlarvi brevemente delle collezioni degli invertebrati del museo di zoologia parlando di invertebrati sostanzialmente centriamo l'attenzione sulla componente entomologica perché sono sicuramente le collezioni più abbondanti spesso citando queste collezioni farò riferimento a chi le ha organizzate e costruite per la prima volta quindi chi il nome della collezione si identifica con chi l'ha costruita le collezioni entomologiche ci rimandano subito al fondatore del museo come già il professor Passeren ha avuto modo di dirvi e cioè a Franco Andrea Bonelli Franco Andrea Bonelli fu effettivamente un personaggio di rilievo nella situazione dell'ottocento torinese perché ebbe una capacità incredibile di coordinare attorno a sé le persone naturalisti più importanti più influenti del momento e quindi noi dobbiamo ricordarlo non solo come già stato fatto come l'organizzatore del vero museo di zoologia ma anche come l'iniziatore il caposcuola di quella che è da tutti considerata la scuola dell'entomologia piemontese e da allora per più di 200 anni questa disciplina ha mantenuto ricercatori ancora oggi abbiamo giovani che fanno delle ricerche splendide in questo ambiente quindi in questo ambito quindi tutti dipendiamo in qualche modo da quello che è stato l'insegnamento di Franco Andrea Bonelli effettivamente lui si interessa molto agli insetti pubblica due contributi uno a cura della società di agraria di cui diventerà socio nel 1808 l'altro nel 1809 presso l'accademia di cui poi sarà considerato verrà proposto come socio con il parere favorevole di tutti e soprattutto questo contributo questo secondo contributo che lo fa apparire come veramente una persona di grande portata di grande rilievo pubblica le osservazioni entomologiche che sono incentrate sui carabidi sui coleotteri carabidi ma con un approccio diverso nulla a che vedere con la sistematica che si è vista finora lui ha letto e conosciuto QV l'Atrei poi andrà nel 1810 a Parigi conoscerà Lamarck è un evoluzionista quindi quello che lui scrive effettivamente è un'ondata di novità per l'ambiente torinese e quindi io vorrei che fosse anche ricordato per questo aspetto è un autodidatta è un caposcuola purtroppo poi la sua salute non è così brillante una forte miopia gli impedirà a un certo punto di continuare gli studi entomologici e lui si dedicherà soprattutto ai vertebrati poi succede un episodio poco simpatico increscioso lui avrebbe dovuto avere attribuita l'ultima sala dedicata al museo e aveva già immaginato cosa mettere in questa sala ma all'ultimo minuto il collega Rolando gliela scippa per esporre i suoi preparati di anatomia lui prese malissimo questa cosa ebbe un ictus e dopo sei mesi morì quindi quando io dico ma sì Franco Andrea Bonelli fu artefice del museo ma fu anche vittima di questo museo perché insomma ne era così legato che probabilmente non superò questa triste situazione comunque Franco Andrea Bonelli raccoglie materiali di tutti i tipi purtroppo il materiale entomologico che raccolse lo sappiamo leggendo il catalogo del conservatore Ghigliani non fu adeguatamente conservato e quindi muffe antreni cioè parassiti distrussero questo importantissimo materiale rimangono di Franco Andrea Bonelli altri materiali di invertebrati ma tutta la parte entomologica va persa le collezioni entomologiche che adesso possiamo valutare sono molte se ne contano fino a 20 sono numerose e vedo già lo sguardo un po' preoccupato in qualcuno di voi ve le passerò una per una no citeremo solo le principali e di queste 20 collezioni abbiamo un totale di 2048 scatole entomologiche per volendo anche quantificare le abbondanze di questi esemplari 400.000 esemplari di insetti quindi già questi numeri vi dicono che siamo in una situazione veramente di grande pregio di grande interesse e poi una collezione entomologica si valuta non solo in base a chi l'ha costituita non solo in base al gruppo su cui è stata messa in piedi ma anche sulla quantità di tipi già il professor Passerenci ha illustrato questo concetto i tipi sono gli esemplari su cui è stata descritta una specie e allora ecco che noi quando guardiamo una scatola entomologica subito buttiamo l'occhio a vedere i tipi che spesso sono identificati da questi cartellini rossi che qui vedete rappresentati ma non sempre sono di così facile identificazione quindi una collezione aumenta la sua importanza in base al numero di tipi che contiene a questo punto vi direi passiamo a ragionare sulle collezioni dobbiamo assolutamente citare per importanza la collezione di Massimiliano Spinola Massimiliano Spinola è il marchese di Tassarolo ci mette 52 anni a costituire il suo corpus la sua collezione è un personaggio non solo naturalista ma anche un politico è in contatto con i maggiori naturalisti europei scambia materiale compra e compra anche quote destinate a finanziare delle spedizioni che poi al ritorno gli restituiranno la parte proporzionale di materiale recuperato quindi lui mette assieme veramente molto materiale si dedica soprattutto a tre ordini di insetti il primo gruppo di insetti su cui lavora gli menotteri è il primo gruppo che arriva a Torino perché è stato acquistato dal museo di zoologia e qui vi cito immediatamente per darvi l'idea di cosa Massimiliano Spinola ha raccolto la classica ape da miele questi sono i tipi dell'ape da miele l'apis mellifica ligustica che lo stesso Massimiliano Spinola identifica e descrive e poi le altre due collezioni cioè gli emitteri e i coleotteri verranno acquisiti successivamente dal museo regionale e quindi il museo regionale riesce 130 anni dopo la costituzione di queste collezioni a ricostituire il corpus completo che adesso è qui a Torino e quindi è una collezione di una importanza incredibile la collezione di di Massimiliano Spinola è anche importante perché come vi dicevo avendo molti mezzi lui compra molte collezioni e compra per esempio delle collezioni francesi la collezione di L'Eppellitier la collezione Serville e riesce ad arrivare anche ad acquisire materiali di Dejan parleremo poi di questa figura un'altra collezione molto importante è quella messa a punto da Di Breme allora Di Breme si occupa di coleotteri però la sua collezione si spazia su tutto il mondo è una collezione di coleotteri mondiali la collezione di Breme riesce anch'essa ad acquisire dei materiali che fanno parte della collezione Dejan quindi anche in questa collezione troviamo molto materiale tipico raccoglie oltre 50.000 esemplari di insetti quindi è una collezione molto importante sia numericamente che qualitativamente ma è la seconda volta che citiamo la collezione di Pierre Dejan vale la pena di dire qualcosa su questo affascinante personaggio si tratta di una persona che ha doti molto varie è stata definita generale e entomologo come si conciliano queste cose Pierre Dejan è il seguace di Napoleone lo segue in tutte le sue campagne militari Napoleone lo riconosce come ardito come valevole lo promuove e quindi lui diventerà anche generale e anche molto ammirato dalle persone che comanda dai dragoni che però sanno che è una persona un po' particolare può succedere a volte che mentre la battaglia sta già infervorandosi in alcune zone i dragoni di Dejan non partono e sono a cavallo e non come mai è semplicemente perché Pierre Dejan non dà l'ordine di iniziare la battaglia perché perché si è visto passare un insetto davanti e quindi lui sceso da cavallo di corso e corre dietro l'insetto e quindi finché non lo trova non succede altro non solo lo trova lo cattura ha sempre gli spigli entomologici con sé spilla l'insetto e poi dove lo metto per essere sicuro che si mantenga bene perché poi c'è una battaglia allora lui si è fatto costruire un elmo molto più grande della sua testa l'ha fatto foderare di sughero tira fuori l'elmo spilla l'insetto nel sughero se lo rimette in testa e a quel punto la battaglia può partire capite a che livello siamo cioè qual è il personaggio di cui stiamo parlando comunque lui in tutte le campagne napoleoniche raccoglie e raccoglie materiale va a costituire la sua collezione importantissima e poi dopo Waterloo nel 1815 ritorna a vita privata anche lui lascia l'ambiente militare e si dedica all'entomologia a tempo pieno e qui effettivamente già il suo lavoro è impressionante primo contributo 1812 cita 24.000 specie secondo contributo 1837 altre 22.000 specie cioè una capacità di lavoro veramente fuori del comune è presidente della società entomologica francese e viene anche riconosciuto in Italia e fa parte socio corrispondente dell'Accademia di Scienze e quindi insomma è un personaggio a tutto tondo muore a 65 anni i francesi lo seppelliranno nel cimitero per la chaise di Parigi ma gli eredi non ereditano la sua passione per l'entomologia mettono in vendita tutta la collezione chiedono 50.000 franchi per l'epoca è una cifra esorbitante e il museo di Stouard Naturel di Parigi vorrebbe acquistarlo ma forse non può una cifra troppo forte acquista alcuni lotti il resto lo lascia libero ed ecco che arrivano gli italiani arriva Massimiliano Spinola arriva di Breme e che ovviamente acquistano quello che possono e portano in Italia e quindi di questa che era considerata la collezione storica di coleoteri più importante a livello mondiale adesso abbiamo qui alcuni dei materiali importantissimi questo per dirvi come le vicende poi i nomi ritornano in queste in queste collezioni storiche possiamo citare la collezione Baudi di Selle Baudi raccolse coleotteri dona tutta la sua collezione che più o meno comporta 50.000 esemplari al museo di zoologia con la sua biblioteca entomologica volumi importantissimi e lui stesso è descrittore di alcune specie che ancora adesso riteniamo di grande rilevanza come io vi ho messo come esempio il Carabus cicroides che Baudi identifica nel 1864 è un Carabide che ha delle micro distribuzioni di giunte con poca connettività a rischio estinzione è una specie che sarebbe meritevole di grande tutela ma andiamo oltre è già stato citato Quintino Sella come grande statista qui troviamo il cugino Eugenio Sella in famiglia Eugenio Sella non è un politico non si interessa di economia bancaria ma si interessa di entomologia raccoglie i coleotteri coleotteri italiani è un esperto dell'area del Biellese dove vive e qui vi cito come esempio una delle specie più interessanti che lui descrive il Carabus Olimpie in realtà dobbiamo dire che Eugenio non trova lui personalmente questo Carabide ma lo trova passeggiando sul sentiero di Bocchetto Sessera la cugina Olimpia Olimpia sta passeggiando si vede questo meraviglioso animale lo raccoglie e glielo fa vedere e lui capisce immediatamente che è una specie nuova e gliela dedica e quindi abbiamo spiegato l'etimologia Carabus Olimpie questa è una specie protetta adesso protetta dalla direttiva Habitat per cui è stato fatto anche un progetto europeo a cui abbiamo partecipato il progetto Life Carabus finalizzato al mantenimento e alla conservazione non solo di questa specie meravigliosa ma anche dell'ambiente in cui la specie vive citiamo adesso la collezione Bellardi in realtà i paleontologi diranno di chi parli è un paleontologo di fama internazionale però fu anche un entomologo perché Bellardi raccolse appassionato di ditteri raccolse in Piemonte migliaia di ditteri in realtà poi pubblicò i ditteri del Messico perché uno svizzero ginevrino Enrico Sossur in seguito ai numerosi viaggi che fece in Messico raccolse molti materiali e lui li pubblicò mentre non riuscì a pubblicare mai i ditteri del Piemonte che gli stavano molto a cuore arriviamo a Borelli Borelli raccoglie sia insetti che scorpioni un personaggio particolare è un esploratore mi piace ricordare che nel nuovo allestimento dell'arca laggiù a sinistra c'è uno spazio dedicato a Borelli i materiali dei ditteri sono a secco gli scorpioni sono sott'alcol e è l'esploratore per definizione insomma dove va questi sono una fotografia dell'allestimento fatto adesso dal museo regionale e lui visita Paraguay Argentina Bolivia quindi esplora ambienti che fino a quel momento erano veramente poco conosciuti dall'ambiente torinese e usciamo dall'ambito dell'ambiente entomologico insomma vediamo quale altre collezioni troviamo possiamo parlare della collezione degli echinodermi è una collezione alla quale non attribuiamo un nome di riconoscimento perché diversi autori hanno contribuito a questo tipo di collezione da Rue a Genè con raccolte che vanno da Marsiglia a Genova ma questa collezione seppur molto importante era messa un po' male era molto confusa arriva Enrico Tortonese nel suo soggiorno torinese la rimette a posto e pubblicherà anche per la fauna d'Italia un volume dedicato agli echinodermi in realtà Tortonese pubblica anche tre altri volumi sui pesci prima di andare a Genova a Genova andrà a ricoprire la carica di direttore del Museo Naturalistico di Genova e poi potremmo parlare anche di altre collezioni come quella dei crostacei con 5.000 esemplari come la macologica con oltre 80.000 esemplari cioè effettivamente le collezioni sono molto abbondanti molto numerose molte sono ricche di tipi quindi importantissime cito ancora come ultimo caso la collezione dei crostacei messa assieme da Alceste Arcangeli Alceste Arcangeli è uno specialista di crostacei di fama internazionale è riconosciuto da tutti come un grande esperto ma non è solo un sistematico lui è anche un docente di zoologia quindi lavora anche su argomenti più generali di biologia come la determinazione del sesso come lo studio degli ermafroditi quindi mette nella sistematica del momento delle informazioni più generali e più complete adesso vorrei usare vorrei fornirvi un esempio che ci potrebbe portare a meglio comprendere come le collezioni storiche siano a volte fondamentali quasi direi le chiavi di volta per risolvere delle situazioni anche di ricerche assolutamente moderne che abbiamo per esempio come questa che voglio presentarvi pubblicata da pochi mesi allora noi ci siamo occupati con un gruppo di amici e colleghi di vedere di richiarire la situazione di questo genere il genere Platinus il genere Platinus fu identificato per la prima volta da Franco Andrea Bonelli nel 1810 quindi vedete che i nomi poi alla fine ritornano sempre Franco Andrea Bonelli identifica nel genere Platinus un gruppo ridotto cinque specie note non a lui altre sono state descritte dopo comunque cinque specie di carabidi atteri tipici di ambienti freschi umidi freddi alpini e quindi che vivono dove negli ambienti per i glaciali nei laghetti alpini nei ruscelli tutti gli ambienti che adesso noi diremmo a forte rischio di estinzione per i cambiamenti climatici allora ci siamo decisi di incentrare un po' la nostra ricerca su questo gruppo per valutarne le entità però ci siamo scontrati di fronte al fatto che non avevamo i riferimenti del materiale tipico quindi avevamo la certezza di aver individuato qualcosa di nuovo ma se non hai il materiale tipico di confronto non sai più come chiamare le due entità o le altre entità che riconosci e qui devo citare quanto è stata utile la collaborazione che abbiamo avuto con il conservatore del museo di scienze naturali il dottor Fulvio Giacchino che si è appassionato a questa ricerca è andato a studiare i cataloghi storici delle collezioni è riuscito a individuare il materiale tipico 28 individui che erano sparsi in tre collezioni diverse la collezione spinola che abbiamo citato all'inizio la collezione di breme perché? perché molti materiali sono di Dejan quindi vedete che poi alla fine il cerchio si chiude in tutte queste situazioni e quindi avendo identificato correttamente il materiale tipico con ricerche moderne che riguardano strutture anatomiche interne e esterne come abitualmente si fa oramai in sistematica abbiamo identificato quattro nuove specie per il sistema dell'arco alpino occidentale versante italiano cioè sostanzialmente specie piemontesi e liguri queste quattro specie sono state anche maggiormente specificate nelle loro distribuzioni quindi vedete questa è la distribuzione storica remota e questa è quella che abbiamo pubblicato recentemente vedete come tutto il lavoro che è stato fatto ha contribuito a incrementare notevolmente la consapevolezza della presenza di questa specie sul nostro territorio e quindi la possibilità di fare un monitoraggio più puntuale e più preciso questo per dirvi le collezioni storiche hanno un'importanza incredibile non solo culturalmente e storicamente ma anche perché senza di loro a volte non riusciamo proprio a chiudere ricerche anche condotte modernamente quindi voglio arrivare alle conclusioni è chiaro che il museo attuale non ha più la stessa finalità del museo dell'ottocento di cui oggi abbiamo sentito molto parlare sono cambiate proprio le esigenze e quindi qual è la finalità di un museo moderno secondo me il museo moderno si muove sostanzialmente su tre linee d'azione sicuramente la conservazione e la gestione delle collezioni storiche che gli sono state affidate ma sicuramente il fatto che deve progredire nelle ricerche cioè un museo moderno non può non fare ricerca e non può non diffondere i risultati della propria ricerca per rendere tutti partecipe dei risultati raggiunti tutta la comunità e poi la butto lì approfitto un po' della vostra presenza per una proposta che forse i tempi sono maturi forse no ma cominciamo magari a discutere può essere che iniziamo a considerare le collezioni naturalistiche storiche come patrimonio dell'umanità le tuteliamo facciamo effettivamente un'operazione complessa non tutte non tutte ma una selezione si può fare incominciamo a pensarci insomma e quindi a questo punto vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento grazie grazie davvero e adesso passiamo invece a Giulio Pavia Giulio Pavia che ci illustra il museo di geologia e paleontologia dell'università di Torino ecco buonasera a tutti sono molto contento di poter presentare risultati di ricerca e soprattutto collaborazione con il museo regionale per quanto riguarda il settore geologico in senso ampio per quanto mi riguarda più specificamente paleontologico comincerei a parlare delle collezioni litologiche riguardo a rocce tenendo conto che arriveremo a parlare anche delle collezioni paleontologiche però le collezioni litologiche sono un po' il cassetto in cui possiamo poi trovare materiale paleontologico le collezioni litologiche vennero catalogate dopo il trasferimento dall'istituto di geologia vennero catalogate dall'allora conservatore mariano gallo che pubblicò questo catalogo in cui vennero descritte elencate 181 collezioni per un totale di 1300 di 13.500 esemplari riguardano collezioni che provengono da diverse parti del territorio italiano ricordo dalla Sardegna la collezione la marmora con un certo numero di campioni ricordo la collezione del traforo del freio ferroviario di metà dell'Ottocento e infine ricordo ancora la collezione del traforo del Montebianco il traforo automobilistico mi si affermerei un momentino sul Montebianco anche perché è un argomento d'attualità in previsione di creare una nuova canna di movimento automobilistico il traforo del Montebianco avvenne negli anni metà del secolo scorso venne seguito dal punto di vista scientifico dal professor Malaroda allora titolare della cattedra di geologia a Torino assieme al collega Baggio Baggio questo materiale derivante dal traforo venne descritto e pubblicato in una serie di atti di documenti pubblicati qui nell'Accademia Nazionale dei Licei in particolare sono tre lavori pubblicazioni che descrivono gli stati di avanzamento i settori di avanzamento del traforo medesimo in questo particolare questo particolare lavoro questo estratto vengono descritti i campioni prevati dalle progressive 2500 fino a 3700 c'è un'analoga pubblicazione per la prima parte e poi la seconda fino ai 6.000 metri di perforazione in questo lavoro oltre alla descrizione della delle tipi litologici incontrate durante il traforo viene fornita anche una sorta di log litologico gradualmente che tipi di rocce si incontrano ci sono rocce cristalline tipo tipo graniti e poi delle rocce metamorfiche che vanno sotto il nome di embrecchiti il materiale che deriva dalla perforazione del monte bianco è attualmente allocato in una serie di cassetti di cassetti metallici attualmente curato dal dottor Massimiliano Senesi che ha collaborato anche in questa fase della mia relazione sono tanti cassetti di una dimensione sui 60 centimetri cassetti quadrati entro cui i campioni litologici vengono numerati in funzione della progressiva di avanzamento della perforazione e poi un numero di inventario in un catalogo generale riconosciamo i campioni chiari diciamo per quello che si può riconoscere sono delle imbrechiti occhiadine mentre quelli più scuri sono gnais biotitici questo campione è particolare tenete conto che i cassetti di questa cassettiera sono circa 60 centimetri di lato quindi un campione enorme peso di diverse decine di chili di un imbrechito occhiadina in cui riconosciamo dei cristalli dei fenocristalli ferspatici quelli pezzetti diciamo così rettangolari che si riconoscono per quanto riguarda le collezioni litologiche io mi fermerei a questo punto tenendo conto che in effetti sarebbero ben più parole ben più tempo sarebbe necessario per poterlo per poter trattare adeguatamente un personaggio che era a cavallo tra le collezioni litologiche tra gli interessi litologici e gli interessi paleontologici Carlo Felice Parona vissuto dal 1855 al 1989 l'Accademia lo ricorda come presidente negli anni 30 Parona si occupò sia di rocce quindi campioni litologici sia di fossili quindi creò diciamo un'abitudine a prendere in considerazione sia il contenuto che il contenitore di luce ricordano tantissime pubblicazioni e soprattutto tantissime collezioni mentre per la parte litologica è stato pubblicato un catalogo che descrive appunto le diverse collezioni per quanto riguarda le collezioni miste o collezioni paleontologiche c'è solamente in questo momento un elenco redatto dai conservatori di allora Franca Campanino e Daniele Ormezzano in cui sono elencati diverse tutte queste diverse collezioni e notiamo qual è questo questo bianco notiamo che in queste collezioni sono rocce fossili del Borneo ad esempio accolti da Bonarelli oppure solo grandi campioni di rocce fossilifiche del cretaceo di Maastricht in Inghilterra la prima collezione che si ricorda di tipo paleontologico si riferisce a Stefano Borshon che verrà ricordato a breve dal collega Giovanni Ferraris come mineralista pubblicò anche si occupò anche di fossili e in particolare nel 1820 al 1825 pubblicò tre articoli in cui descrisse fossili del Piemonte dell'era terziaria dal titolo Oritografia Piemontese venne descritte 90 specie di cui 26 nuove e avete già sentito dal colleghi precedenti come la presenza e l'istituzione di specie nuove con tipi sia uno degli obiettivi se vogliamo o meglio uno dei risultati più importanti di una pubblicazione in ciascuno di questi tre articoli compare un'immagine una litografia con disegni delle specie descritte da Borson mi chiamerei la vostra attenzione solamente su quella in alto a destra Murex Tortuosus questo perché la collezione Borson rimase un po' nascosta non venne evidenziata nel tempo anche i paleontologi successivi non ne preso tanta attenzione a metà del 1976 in particolare il sottoscritto consultando le collezioni del museo scoprì una piccola collezione equivalente a quella descritta da Borson in effetti era quella e quindi pubblicai questa nota con tavola fotografica richiamo l'attenzione in alto a sinistra il distorcio tortuoso questo gasteropo istituito da Borson con un nome aggiornato non più Murex tortuoso ma genere diverso e quell'esemplare è l'olotipo della specie rimanendo in ambito paleontologico la collezione più famosa che venne trasferita dall'università al museo regionale è la collezione Bellardi e Sacco questo è un pannello presente nei saloni espositivi e di conservazione del museo quindi sotterraneo in cui si parla di questa collezione Bellardi e Sacco in questa collezione vengono registrati diciamo un numero elevatissimo di esemplare la collezione Bellardi e Sacco venne istituita da Bellardi allora conservatore al museo di geologia e paleontologia e Federico Sacco professore di geologia all'università e al Politecnico una tavola di Bellardi del 1872 in cui vengono illustrati alcuni esemplari di Gasteropoli curiosamente o curiosamente potremmo dire noi adesso curiosamente ma per il tempo con l'apice della spirale verso il basso attualmente invece vengono rappresentati i capovolti una tavola un'immagine della monografia di Sacco del 1893 illustrante di Gasteropoli del genere Conus la collezione Bellardi di Sacco venne negli anni a partire dagli anni 80 venne rivista vennero pubblicati in fase successiva tra i cataloghi due per gli Asteroopoli e uno per i bivalvi in cui tutte le specie descritte da Bellardi di Sacco vennero numerate vennero assegnato un numero progressivo di catalogo in particolare questa operazione di rivisitazione della collezione Bellardi di Sacco portò ad assegnare a ciascun esemplare un numero di catalogo qui nell'immagine vediamo che queste due varietà di Gasteropoli appartenenti alla specie Strombus Coronatus hanno numeri diversi riconosciamo il cartellino giallastro arancione originale originale del tempo di Sacco in questo caso il cartellino invece chiaro sulla sinistra contiene un numero di inventario di S è la collezione e poi via via numeri in funzione della progressione tassonomica il cartellino azzurro invece si riferisce al fatto che quell'esemplare particolare sia una varietà che l'altra varietà furono in origine figurati dall'autore da Sacco in particolare la collezione Bella di Sacco era sistemata prima del trasloco qui al museo a Palazzo Cardignano l'ultimo piano del Palazzo Cardignano in questa lunga sala con mobili fatti apposta alla fine ottocento per contenere la collezione medesima cassetti per contenere il materiale e per esporre gli esemplari più belli o più eclatanti e quelli più significativi comunque attualmente la collezione Bella di Sacco invece è contenuta in questa batteria di cassetti metallici sicuramente più funzionali un po' più asettici diciamo che non quelli che abbiamo visto prima all'interno di ciascun cassetto tenete conto il cassetto più o meno sarà 60 cm di lato i fossili sono contenuti avvolti in un sacchetto contenuti in un sacchetto protettivo e con ciascuna scatoletta con l'etichetta numero di inventario e informazioni in particolare scendendo nel particolare abbiamo in questa immagine una specie istituita da bellardi il latirus cornutus di quell'esemplare è il tipo di questa specie e quindi è marcato con questa etichetta rossa per riconoscere lo rispetto agli altri l'esemplare di fianco a destra caratterizzato da un'etichetta di colore azzurro si riferisce a un esemplare figurato da Sacco nel tempo e quindi riconoscibile rispetto agli altri che costituiscono invece la base generale della specie un altro cassetto della collezione bellardi di Sacco in questo caso con dei bivalvi riconosciamo anche qui dei cartellini chiari che riferiscono assegnano solo il nome il nome a quell'esemplare e il numero di inventario ma gli altri invece con qualche etichetta azzurra per segnalare l'esemplare per ricordare l'esemplare figurato non ci sono solo molluschi naturalmente ho collezioni di invertebrati ma ci sono ricche collezioni trasferite al museo regionale di vertebrati qui abbiamo una vetrina ottocentesca che proviene dal palazzo Carignano restaurata qui al museo regionale contenente dei teschi di bovidi che provengono dal quaternario del Piemonte un caso particolare stando nell'ambito dei vertebrati è questo reperto questo scavo venne effettuato alla fine del secolo scorso in occasione della costruzione della ferrovia Torino-Alessandria che collegava anche fino a Genova durante le fasi di sbrancamento per piazzare i binari della ferrovia in un punto venne rinvenuto vengono rinvenute delle ossa che vediamo accumulate non sono molto ben distinguibili ma comunque riconosciamo un omero e un femore in particolare lo scavo venne i lavori vennero sospesi si ricorda il tempo per il recupero di questo materiale lo scheleto recuperato venne poi montato nella sale di Palazzo Carignano la sale dei vertebrati ed è una una specie particolare di vino ceronte lo stefano inus giambiretti qui è una fotografia d'epoca purtroppo durante la guerra uno spezzone incendiario sfondò il tetto proprio sopra questa il tetto di Palazzo Carignano proprio sopra questa sala e lo scheletro venne in buona parte distrutto o comunque ridotto a pezzetti non poteva più essere rimontato in questa maniera ma il conscrevatore del Museo di Scienze Naturale Daniele Mezzano in particolare ebbe la bellante idea di trovare il modo di replicare con degli elementi in materiale sintetico in modo da poter avere ancora uno scheletro anche se replicato in materiale sintetico e questo scheletro sintetico attualmente è qui esposto nelle sale del Museo regionale sempre nell'ambito dell'attività del Museo regionale in collaborazione sempre con l'università ben inteso negli anni 90 vicino a Villa Franca d'Alti in uno scavo vennero rinvenute delle ossa un ammasso di ossa probabilmente legate a un individuo un vertebrato trascinato da una corrente e accumulato in modo caotico venne recuperato il materiale allora riconosciamo nella figura in alto non la riconoscete ma io so che è la dottoressa Franca Campanino conservatrice del Museo regionale un ultimo passaggio riguarda l'attività la collaborazione stretta di ricerca tra università dipartimento di scienza della terra anzi istituto di geologia e paleontologia ancora e museo regionale in questo slide riconosciamo almeno chi conosceva il professor Carlo Sturani purtroppo deceduto tre anni dopo questa fotografia il quale pubblicò una serie di studiò del materiale proveniente da una località vicino a Valenza Pecetto di Valenza da cui proveniva una certa quantità di materiale paleontologico rappresentato da scheleti di pesce di ambiente marino lo scopritore di questa di questa località e quindi chi fornì l'informazione per poter studiare questa località molto importante di Crescina Guanera è questo signore con gli occhiali Mario Maccagno che purtroppo non c'è più con noi adesso l'importanza di questa scoperta anticipata dalla pubblicazione di Carlo Turani fece sì che il Museo Regionali in sinergia con il Dipartimento di Scienze della Terra avviò o progettò un intervento sistematico per la raccolta di materiale venne seguita la procedura legale quindi si ottenne l'autorizzazione della subintendenza o meglio dal Ministero dei Beni Culturali per il tramite della subintendenza torinese e quindi venne effettuato uno scavo sistematico su grande stile in questa località di Cascina Guarniera venne recuperato una quantità di materiale notevolissimo che entrò direttamente nelle collezioni del Museo Regionale assieme al materiale che arrivava invece dalla ricerca di Carlo Costurane il lavoro di ricerca durò una decina di giorni più o meno a chiusura ci fu la riunione dello staff del Museo del Museo Regionale riconosciamo in primo piano l'allora direttore Olindo Bortesi e a fianco la collaboratrice Levi che materiale venne prodotto da questo scavo con materiale che attualmente fa parte direttamente delle collezioni del Museo Regionale si tratta di sedimenti laminati e quindi sulle superfici di questi sedimenti troviamo schiacciati i resti di pesce in particolare questa è una losa un pesce azzurro attualmente vivente mediterraneo ugualmente vivente mediterraneo questo pesce pesce sciabola l'epidopus pro argenteus che può raggiungere anche i due metri di lunghezza questo esemplare in particolare me lo ricordo è lungo circa un metro e quaranta quindi una condizione di fossilizzazione particolare per cui fondo asfittico assenza di predatori e di organismi decompositori della sostanza organica per cui lo scheleto è rimasto e rimasto intero l'interesse di questa località cascina guarnera guarnera di peccetto di valenza è che ha fornito anche delle specie nuove in un ambiente in cui in una realtà etiologica in cui molte cose erano già conosciute trovare una specie nuova è particolare e abbiamo questo pesce palla chiamato archeote traudon vannicovi pubblicato da un articolo pubblicato dal professore Carnevale Giorgio Carnevale ringrazio per l'attenzione e soprattutto ci tengo a ringraziare il personale del museo che ha curato da quando io ricordo con attenzione e molta collaborazione le collezioni senza di loro forse avremmo avuto magari dei problemi grazie alla vostra attenzione grazie Giulio e adesso diamo la parola a Giovanni Ferraris per il museo di mineralogia grazie buon pomeriggio a tutti io sono l'ultimo a presentare una delle collezioni storiche precisamente quella del museo di mineralogia come avrò modo di dire finora abbiamo sentito parlare che per il riconoscimento dei cosiddetti tipi bisogna avere il tipo di fronte o perlomeno una descrizione come si deve i minerali come mi soffermerò come facendo essendo dei materiali che hanno una composizione chimica ben definita e una struttura ben definita attualmente si riconoscono in base come dire adatti di tipo chimico-fisico volevo fare questa premessa perché entriamo come dire in un mondo che è un po' di passaggio tra quanto abbiamo visto adesso le collezioni più naturalistiche e quelle che adesso vanno sotto il nome di scienza dei materiali quindi sono a cavallo i minerali sono appartengono alla la crosta terrestre quindi fanno parte sono materiali geologici ma allo stesso tempo hanno anche un interesse tecnologico allora le prime notizie essendo l'ultimo ripeterò cose che abbiamo già detto eccetera anche i nomi che abbiamo già sentito quindi le prime notizie sulla collezione del museo di mineralogia come già stato detto risalgono la prima metà del settecento quando furono istituiti musei di storia naturale presso l'accademia del senso di Torino e presso l'università di Torino come già stato detto nell'introduzione oggi pomeriggio precisamente ricordo che il museo di storia naturale dell'università di Torino fu istituito nel mese settecentotrenta presso gli storici locali di via Po che ancora attualmente sono la sede del rettorato come già ricordato nel 1750 il re Carlo Emanuele III arricchì la collezione mineralogica del museo con acquisto presso privati e la già ricordata società privata torinese fondata nel 1757 che poi diventerà nel 1783 l'Accademia delle Scienze di Torino allora presso questa società privata poi l'Accademia delle Scienze fu creato un museo di storia naturale in cui confluirono le collezioni private di vari soci tra i più importanti i più noti il Conte Morozzo il professor Bonvicino e il Cavalier Napione di cui adesso ci soffermiamo un attimo dunque il Cavalier Napione è una storia molto lunga no? fu mineralogista finì come ufficiale in Argentina se non vado errato dunque qui è rappresentata la prima pagina del suo trattato di mineralogia pubblicato nel 1797 e credo che sia stato il primo ad essere pubblicato in Italia e anche tra i primi in Europa possiamo dire nel mondo perché allora la scienza era essenzialmente l'Europa ecco in questo trattato di mineralogia come ho accennato prima come si riconoscevano i minerali non c'erano all'interno del volume sì ci sono anche qualche disegno ma non ci sono disegni fotografie che permettono di riconoscere quel campione d'accordo? a quel periodo come venivano riconosciuti? bisogna riconosciuti essenzialmente sulla base dell'analisi chimica perché teoricamente un minerale ha una composizione chimica ben definita salvo alcune sostituzioni e in base alle proprietà fisiche che a quei tempi erano la durezza come si scalfisce in base a una scala da 1 a 10 in base al peso specifico in base allora si incominciava con le proprietà ottiche ma il vero boom del riconoscimento delle proprietà ottiche sarà circa mezzo secolo dopo e poi in un altro momento vedremo come si fa oggi ecco qui Borson già citato no? ovviamente diciamo così che tutti sappiamo no? basterebbe citare Leonardo da Vinci una volta gli uomini di scienza erano più multiformi più eclettici se vogliamo no? qui trattiamo del Borson che abbiamo sentato prima che era entomologo che scusate che è paleontologo e qui lo ricordiamo come mineralogista allievo del napione di cui abbiamo detto prima nel 1798 d'accordo quindi poco dopo la pubblicazione di quel trattato che abbiamo visto nella diapositiva precedente fu incaricato di classificare i minerali del museo dell'accademia delle scienze e pochi anni dopo nel 1801 anche quella della collezione universitaria abbiamo già sentito nell'introduzione oggi che c'erano queste due collezioni di cui arriveremo e ovviamente la classificazione avvenne in base a quei principi che abbiamo detto prima analisi chimiche completi osaggi chimici e proprietà fisiche che si potevano misurare allora e qui arriviamo a Napoleone già menzionato nell'introduzione fatta dalla cancelliera nel 1805 ricordiamo che il Piemonte il già regno di Sardegna meno la Sardegna propriamente detta fu face parte dell'impero francese dal 1801 1800 le date sono un po' secondo dove si vuole incominciare fino al 1814 è diviso in dipartimenti che prendevano il nome dei fiumi come ancora oggi in Francia i dipartimenti hanno il nome dei fiumi che sovente sono solo degli regagnoli io sono di Vercelli e su quello che è attualmente il palazzo dove c'è la provincia e altri uffici c'è ancora scritto departement dell'assessia allora nel 1805 Napoleone I fuse due collezioni con un decreto che già è stato ricordato anche se esse restano separate fino al 1878 quando Giorgio Spezia curò il loro trasferimento al palazzo Carignano rovistando in rete come si fa adesso prima bisognava girare per archivi biblioteca adesso per fortuna un po' più comodamente ho trovato che in quell' occasione almeno il 16 di aprile che però non era il giorno sono andato a verificare i verbali dell'accademia il 16 di aprile non era il giorno in cui fu presentato il decreto di Napoleone però fu presentato un busto di Napoleone o meglio un busto ricavato da un ritratto di Napoleone e questo busto dovrebbe ancora trovarsi in qualche deposito torinese che non sono riuscito a chiarire questa è una curiosità bene veniamo al nostro catalogo di Borson di cui abbiamo detto qui è rappresentata la prima pagina e nel 1811 stampò la prima parte ma in realtà il suo catalogo definitivo è quello di cui vediamo il frontespizio pubblicato a Torino in francese allora abbandonato il latino si passò al francese poi per un po' di tempo al tedesco e adesso siamo tutti anglofoni anche quando non sarebbe necessario scusate la battuta ma io sono contrario a usare a seminare di parole inglese dappertutto oggi siamo in una bella location direbbero in tanti semplicemente siamo in un luogo bello accogliente va bene scusate allora nel catalogo B830 erano descritti ben 9902 campioni e è già stato ricordato all'inizio che i direttori dei musei in particolare di quello di mineralogia erano anche i professori di mineralogia anzi allora non è ancora distinto la cattedra di geologia verrà più tardi anzi in questo periodo qui con Sismonda erano anche i professori universitari ed erano accademici e quindi Sismonda Angelo Sismonda che seguì a Borson sulla cattedra di mineralogia incrementò la collezione fino ad 10.000 campioni e riorganizzò il catalogo è chiaro che aumentando le cose bisognava dunque prima è stato dato ampio risalto ovviamente anche a quello che veniva qui dal Piemonte o se vogliamo dal Regno di Sardegna nel caso della collezione mineralogica che era una delle più importanti d'Europa allora per i motivi che già sono stati detti c'era ampio spazio per i minerali alpini in particolare alcuni campioni eclatanti su cui dirò qualcosa più avanti però ovviamente c'erano anche campioni che provenivano da altre parti del mondo generalmente tramite scambi d'accordo io non ho trovato traccia non c'è mai stata nessuna spedizione organizzata per raccogliere campioni di minerali da qualche parte del mondo che non fossero le nostre Alpi quindi quello che veniva da fuori ma non solo per la collezione turinese anche diciamo così dove c'era e forse tutt'oggi c'era la maggior collezione di minerali a Parigi no venivano per scambi e quindi come ho già accennato nel 1872 la collezione quando Sismonda sistemò il suo catalogo è la collezione più importante d'Italia e una delle prime d'Europa ecco è interessante questa è l'attrezzatura di campagna utilizzata da Angelo Sismonda per fare saggi chimici al cannello cioè in campagna quindi un primo riconoscimento veniva in campagna perché diciamo così che d'accordo anche i minerali sono belli colorati e se si presentano in macro cristalli o con l'aiuto di una letta si possono riconoscere i cristalli ma sovente sono masse più o meno amorfe d'accordo e quindi ho già detto prima che uno dei capisaldi per la classificazione dei minerali è l'analisi chimica con questa attrezzatura Sismonda poteva fare dei saggi in campagna tramite il cannello cioè il cannello a fiamma ossidrica d'accordo perché se il cannello a fiamma ossidrica evapora gli elementi chimici e diversi elementi chimici danno un colore specifico nei gas sviluppati e quindi è un primo saggio questa cassetta è ancora conservata presso il dipartimento di scienze della terra mi ha detto Daniele Castelli mi ha rinfrescato la memoria perché dovrei saperlo essendo colui che firmò la transizione della collezione di mineralogia nel lontano 1978 firmò la consegna il passaggio incomodato della collezione universitaria al museo di scienze naturali ecco e qui veniamo a Giorgio Spezia e abbiamo una transizione ormai d'accordo con Giorgio Spezia in pratica i titolari della catena di mineralogia non dico che non vanno più in campagna no ma magari vanno in campagna per portare gli studenti o i laureandi d'accordo ma non per diciamo così grosse spedizioni di raccolta di campioni dunque Giorgio Spezia fu un pioniere della mineralogia sperimentale per mineralogia sperimentale si intende la sintesi fatta in laboratorio di minerali e attualmente anche di rocce però non trascurò il museo innanzitutto si interessò del trasferimento delle collezioni fu trasferite al palazzo Carignano e incrementò pure la collezione fino a 14.000 campioni a proposito di Giorgio Spezia lui in particolare riuscì a sintetizzare cristalli di quarzo partendo in realtà da cristallino naturale una curiosità la curiosità è questa diciamo che durante l'ultima guerra mondiale 40-45 esattamente l'anno non lo so dire perché la lettera di cui dico è andata persa arriva una lettera dagli Stati Uniti indirizzata al professor Giorgio Spezia che nel frattempo era morto da qualche anno per sentire insomma dalle sue parole come si faceva a sintetizzare i quarzi perché i quarzi perché i quarzi hanno l'effetto piagge elettrico cioè se compressi generano cariche elettriche e quindi venivano usati in particolare per costruire i primi strumenti radar e qui vediamo le applicazioni tecnologiche a cui ho accennato all'inizio dunque dopo Giorgio Spezia la collezione crebbe ancora con Emilio Reporsi che in particolare l'arricchi di magnifici campioni di vesuviani epitodi di obsidi e granati della valdala alcuni dei quali dunque perché i minerali sono in questa parte del museo la parte esposta d'accordo e alcuni di questi sono messi lì ma nel frattempo è avvenuta la grande transizione d'accordo che è uno dei motivi per cui almeno le collezioni di mineralogia come dire vennero un po' accantonate nel 1911 a parte il fatto che erano almeno 3-4 secoli che la gente si chiedeva come mai i minerali hanno cristalli belli con delle belle facce eccetera eccetera anche bei colori d'accordo e le ipotesi sono sempre state tante anzi diciamo pure che fino alla prima metà dell'ottocento buona parte dei progressi verso la teoria atomica della materia erano compiute proprio nell'ambito della mineralogia la ricerca di capire perché i cristalli avevano questo abito geometrico uniforme ormai era chiaro che dovevano essere dovuto a qualcosa di sub-microscopico però si era con delle ipotesi l'ipotesi più facile da spiegare era che gli atomi immaginati come sfere fossero impilati nel modo più compatto possibile almeno si possono spiegare varie morfologie comunque invece nel 1911 fu scoperto che mandando un fascio di raggi X su un cristallo il fascio veniva restituito in mille direzioni e mostrava delle simmetrie per farla breve si scoprì che i cristalli erano in grado di difrangere come si dice in termini tecnici i raggi X e l'intensità delle macchionine di difrazione raccolte su una pellicola fotografica e la loro distribuzione potevano portare a fare ipotesi sulla distribuzione e sul tipo degli atomi e quindi a determinare la struttura cristallina e questo è ancora il metodo principale per determinare come sono disposti gli atomi nei materiali cristallini la maggior parte dei materiali di interesse tecnologico sono cristalline e ancora questo e al giorno d'oggi ma questo vale per tutto senza conoscere a disposizione degli atomi se sono molecole senza conoscere come sono fatte le molecole è di fatto impossibile poi sintetizzare questi campioni con delle varianti le varianti per esempio sono importantissime prendiamo solo il campo dei medicinali ci sono i generici e quelli di marca generalmente sono diversi per qualche appendice in più o in meno nelle molecole e questo è possibile farlo solo se noi sappiamo come è fatta la molecola e questo è uno dei metodi tuttora utilizzato scusate queste diversioni ma è per cercare di mettere nel mondo moderno quello che stiamo dicendo mi avvio verso la fine allora nel 1936 come già ricordato molti istituti e musei naturalistici furono trasferiti a San Giovanni e questo per la collezione di mineralogia aspettò il professor Massimo Fenoglio che io ho ancora fatto tempo a conoscere è lui che mi assunse come assistente osano e mi sono stati con lui ancora da 4-5 anni trasferito la collezione di minerale che come già è stato ricordato nel 1980 è passata al museo regionale di scienze naturali e i campioni trasferiti furono 15.517 di cui le vetrine erano del tipo di quelle che ha fatto vedere Giulio Pavia per le rocce esposti erano circa 6.000 gli altri erano i cassetti di quei mobiletti che ha fatto vedere lui di questi circa 400 erano di grandi dimensioni e qui prima della chiusura del museo ci fu una mostra proprio in questa in cui i campioni di grandi dimensioni erano diversi di questi e 63 di meteoriti vado veloce perché la collezione di meteoriti adesso qui presso il museo è una delle più importanti storicamente sicuramente lo è andiamo a vedere vi faccio vedere qualche campione notevole d'accordo questo campione di fluorite che c'è qui d'accordo che viene al ghiacciare dell'argentere ci siamo nì fu donato al museo meteorologico dal re Carlo Alberto nel 1844 9x8x5 cm ma anche il colore e questo è il suo cartellino originario ringrazio la fine ma lo cito già subito qui queste fotografie le devo al conservatore Massimiliano Senesi questo è un vaso di salgemma il nome proprio all'ite donato pure al museo dal re Carlo Alberto lavorato all'altezza di 18 cm bene questa cosetta pepita dell'impero dunque va bene insomma la prima se vogliamo la prima colonia italiana fu l'Eritrea che all'inizio non era una vera colonia per farla breve però sempre no più o meno palesemente c'era la speranza di trovare miniere d'oro d'accordo va bene in realtà in Eritrea sì ce n'è di Ormano quello che vedete qui che è una pepita che pesa 352 grammi adesso è conservata qui al museo e le dimensioni sono circa 12x6x4 cm invece fu trovata lì nel Volega che è nel sud dell'Etiopia giù dall'altipiano furono diverse queste pepite le più grandi furono portate in Italia ed erano presso il ministero delle colonie con il suo museo museo che è stato disfatto dopo l'ultima guerra d'accordo e la seconda pepita come si dice è questa viene qui a Torino e la prima dovrebbe essere al museo di mineralogia di Roma ma qualcuno mi ha detto che usiamo il termine che non è più reperibile ecco a proposito dei meteoriti ricordo questa perché è qui vicino a noi e ancora di più vicino a me che sono vercellese questa cosiddetta meteorite di Mota dei Conti il nome più usato era Aerolite questa fu vista cadere e fu raccolta il 29 febbraio 1868 e il peso complessivo era più di 6 kg quindi questo è uno dei 63 meteoriti che c'erano qui e vado verso il termine questo è un altro campione particolare spettacolare e anche storico questo è il magnetite di geminato quando due cristalli sono collegati tra di loro da una simmetria si parla di geminati cioè sono gemelli d'accordo ed è eccezionale per la sua dimensione di circa 12 cm e ancora questo questo è di raccolta più moderna nelle miniere di Traversella a un certo punto in un filone vennero scoperti eccezionale cristalli di scelite di cui ne vediamo uno qui e che per lungo tempo furono i cristalli di scelite più grandi noti adesso mi si dice ma ce n'è uno esposto lì che ci hanno battuto ovviamente il solito Sud America no ci hanno battuto in queste è ancora un cristallo eccezionale che credo che sia esposto qui alla mia sinistra di quelli che ho ricordato prima che vengono dal Pian della Musa a Val dell'Ala ovviamente almeno quello che era in vista è mai stato raccolto al Pian della Musa si trova ancora qualcosa nel discarico ma non cose così eccezionali in particolare questi cristalli di Vesuvianite con queste dimensioni erano e restano eccezionali e qui mi avvio alla fine vi faccio vedere alcuni campioni storici no perché i cristalli venivano montati in questo modo erano di dimensioni possibilmente centimetriche no perché un modo per riconoscere una determinata simmetria era misurare gli angoli gli angoli di una determinata specie cristallina sono costanti è una delle leggi principali della cristallografia e quindi venivano montati così per poterli misurare con dei gognometri a contatto e poi vi ho inventato un gognometro a riflessione in cui è molto più facile dunque molto di quello che vi ho detto è raccolto in questo catalogo minerale a Torino di Emanuele Costa e il già menzionato Lorenzo Mariano Gallo di cui è esaurito siccome la mia memoria è labile io sono riuscito a trovarne uno in rete ma dopo di che ero certo che ce l'avevo dovevo averlo per forza perché ho fatto parte anche del commentato scientifico di questo museo no va bene adesso ne ho due uno l'ho dato a mio figlio che segue le mie ore bene come già ricordato sono particolarmente grato al conservatore Massimiliano Senesi che non ho ancora incrociato oggi ma suppongo che sia qui in Salda ah c'era vabbè ma io mi sono sentito guardato per la sua precisosa consulenza nella scelta di quei campioni storici che vi ho fatto vedere e le relative fotografie ringrazio voi per la vostra per la vostra pazienza grazie Giovanni e adesso passiamo a Laura Pistalino e Elena Giacobino che ci presenta invece con la sveglia quello che è l'attività attuale del museo prego sì porto i saluti di Elena Giacobino che è assente giustificata e vorrei ringraziare il professor Mori e il professor Castelli innanzitutto per aver incluso in questo evento in questo ciclo di eventi dell'Accademia delle Scienze dedicati alla valorizzazione dei beni culturali anche le collezioni naturalistiche scientifiche perché sono effettivamente dei beni culturali grazie anche per aver scelto di giocare in trasferta e quindi di essere venuti in questa sede siamo onorati della vostra presenza ok parto da una data che è il 1978 nel maggio del 78 l'associazione nazionale musei scientifici tenne a Torino il suo secondo congresso nazionale e l'obiettivo era quello di focalizzare l'attenzione della classe politica della comunità scientifica e dell'opinione pubblica sulla importanza che doveva essere attribuita ai musei scientifici in quell'occasione fu pubblicato un volumetto relativo alla consistenza delle collezioni naturalistiche dell'università torinese e come scrisse Malaroda curatore del volumetto voleva essere un punto di partenza per successivi approfondimenti che nel tempo saranno poi venuti andiamo al 1978 29 giugno la legge istitutiva sancisce la nascita del museo regionale di scienze naturali in realtà al momento dell'uscita della legge non c'era ancora la sede che venne poi formalizzata l'anno successivo nel settembre del 79 ci fu la convenzione tra la regione Piemonte e l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista della città di Torino che concesse in comodato d'uso l'immobile dell'antica sede e questo rientrava nella politica della regione Piemonte di recupero del patrimonio edilizio di interesse storico l'ospedale progettato da Medeo di Castellamonte nel 1680 fu effettivamente per oltre 250 anni una realtà fondamentale per la città di Torino e sia come appunto ospedale che come farmacia realtà che è presente ancora oggi al museo con i suoi arredi storici questa questa occasione di presentare il palazzo fu in una mostra e in un catalogo che rimane ancora una delle opere più complete sull'insieme delle planimetrie e di tutte le successive variazioni e ampliamenti che ci furono nella costruzione del palazzo e questo siamo sempre nel 1980 il palazzo poi fu ampliato e adesso vedremo le fasi della ristrutturazione ne abbiamo già parlato ampliamente come mai proprio il palazzo dell'ospedale perché in realtà una parte delle collezioni si trovava già qui non mi dilungo su questo perché se ne è ampiamente parlato non fu gradito all'università il trasferimento fu definito da Malaroda improvviso e improvvido e dal professor Fenoglio di cui ha parlato proprio adesso il professor Ferraris fu con rammarico detto che le collezioni e i musei universitari avevano lasciato una dimora regale per trasferirsi in un ospedale dei poveri ben presto fu di dominio pubblico che l'ospedale avrebbe lasciato posto a un museo in realtà occorsero oltre dieci anni per poter prendere possesso da parte della regione Piemonte del palazzo quando l'ala di via Giolitti fu completata furono allestiti gli uffici e dalla sede provvisoria di via Maria Vittoria ci fu il trasferimento nel 1991 del personale nella nella sede in realtà poi i lavori proseguirono e sono oltre 40 anni di lavori in una serie di lotti successivi per dare via via spazio a nuovi locali e a nuovi depositi l'ospedale cioè scusate il palazzo ha acquisito una attraverso le diverse ristrutturazioni una bellissima diciamo un bellissimo aspetto e i dettagli ce lo riservano c'è una frase a lato del portone d'ingresso che dice che un'indulgenza plenaria quotidiana si acquisisce speriamo che per chi ha lavorato per oltre 30 anni in questo museo possa essere di aiuto per il futuro arriviamo al 1980 quando viene stipulata la convenzione per l'affidamento delle collezioni al museo anche di questo abbiamo abbondantemente parlato rinnovata nel 91 poi nel 2003 poi ancora nel 2004 fino alla definizione di un nuovo testo di rinnovo abbiamo visto qualche immagine di come doveva essere al momento della consegna da parte dell'università alla regione dei musei naturalistici quella del museo di zoologia del 56 l'ha presentata il professor Passare in cui abbiamo un'immagine del museo di mineralogia nel 1968 e all'inizio degli anni 80 con alcuni cassetti aperti per quanto riguarda invece il museo di geologia e palantologia ancora palazzo Carignano abbiamo delle immagini del 77 e del 79 quindi più o meno coeve alla nascita del museo e alla convenzione e qui gli effetti del periodo bellico purtroppo sono molto evidenti nella convenzione vi sono gli allegati che contengono gli elenchi delle collezioni che sono state lasciate incomodato e questa convenzione è molto eterogenea per quanto riguarda questi allegati alcuni parlano di una collezione sistematica mondiale altri invece sono in altri punti più specifici come ad esempio uno scheletro completo di ippopotamo alla convenzione seguirono poi dei verbali di affidamento in uso con il trasferimento formalizzato delle singole collezioni in quel periodo e questo è già stato evidenziato si partì con i primi elenchi sotto forma di cataloghi che uscirono alle stampe nella serie appunto cataloghi del museo di scienze e furono appunto per alcune collezioni tra l'80 e l'86 già delle prime formalizzate prese di coscienza delle collezioni avute dall'università usiamo come filo conduttore le finalità espresse nella legge sono cinque punti che ci accompagnano in questo percorso allora il primo è promuovere l'incremento della cultura scientifica e soprattutto relativa ai giovani e alle scienze naturali poi mettere a disposizione una struttura che sia idonea a conservare utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'università di Torino favorire la ricerca e gli scampi culturali nel campo delle scienze naturali provvedere all'aggiornamento all'accrescimento delle raccolte e costituire una struttura che abbia funzione di integrare le attività di altri musei e collezioni presenti in Piemonte li vediamo molto velocemente uno per uno per quanto riguarda la promozione dell'incremento della cultura scientifica il museo è stato molto attivo in ambito sia di divulgazione verso gli specialisti ma soprattutto verso il pubblico generico e qui abbiamo due esempi nell'ambito della collana natura preziosa uno è relativo alle collezioni di Traversella di cui ha parlato il professor Ferraris e Meteoriti in cui si dà particolare attenzione alle collezioni universitarie poi le attività del centro didattico che sono state condotte sia all'interno del museo sia all'esterno presso istituti scolastici carceri e ospedali e sono oltre 20 anni di attività con produzione di questi cataloghi di laboratori sono dei veri e propri cataloghi di offerta formativa verso le scuole su tutte le possibili discipline delle scienze naturali non solo per le scuole ma anche per le famiglie e comunque sempre in ogni laboratorio le collezioni scientifiche universitarie sono fondamentali tra gli ultimi laboratori proposti quello relativo ai viaggi che hanno portato collezioni al museo e qui ne abbiamo l'esemplificazione collaborazioni con i parchi o anche con l'accademia delle scienze perché sono oltre 10 anni che il museo lavora in collaborazione con l'accademia per laboratori didattici salto un attimo il punto 2 passo alla ricerca gli scambi culturali e qui l'attività è quasi infinita partecipazione a gruppi di lavoro progetti finanziati bandi nazionali internazionali e vorrei ricordare le missioni di ricerca a livello pluriannale e i protocolli di intesa ad esempio con i parchi del Madagascar per la conservazione della biodiversità nell'isola o ad esempio uno il progetto di censimento della diversità nel parco delle Alpi Maritime in Mercantur tutti quelli che porto sono proprio soltanto dei piccoli esempi a campione perché in effetti l'attività svolta in questi 40 anni è stata corposa aggiornamento delle raccolte le abbiamo già parlato con il professor Pavia infinita la richiesta da parte degli specialisti di consultazione delle nostre collezioni qui abbiamo la collezione Bellardi e Sacco con i tipi il catalogo dei tipi dei figurati pubblicati e diciamo che è quasi quotidiana la richiesta di studiare materiali sia per la malacologia fossile che recente per quanto riguarda invece l'accrescimento delle raccolte no scusate ancora un esempio di aggiornamento delle raccolte per quanto riguarda le collezioni entomologiche e anche qui abbiamo gli menotteri della collezione Spinola di cui ha parlato la professoressa Palestrini anche qui è sempre notevole la richiesta perché queste collezioni sono dei punti di riferimento a livello assolutamente internazionale per quanto riguarda altri esemplari in particolare studiati di recente qui un esempio il cocodrillo pubblicato da Federico Sacco oggetto di recenti indagini per quanto riguarda l'accrescimento delle raccolte qui ha lavorato in particolare la regione Piemonte e il museo attraverso acquisti e se ne è parlato attraverso i lotti di collezioni che sono stati acquistati dal museo con un intervento finanziario diciamo non indifferente le donazioni gli scavi le raccolte in campo o le missioni di ricerca tutto questo ha consentito di avere un patrimonio di collezioni che sono proprie della regione Piemonte che sono andate avanti in parallelo a quelle universitarie Poi per quanto riguarda l'integrazione delle con altre realtà museali esistenti in Piemonte il museo è promotore e capofila della rete dei musei naturalistici in Piemonte sono sono circa 120 realtà museali in Piemonte distribuite variamente sul territorio che conservano collezioni monografiche o pluridisciplinari più o meno grandi e che svolgono attività sul territorio anche con le collezioni questa è la distribuzione per provincia e alcuni di questi musei hanno collezioni storiche che hanno avuto una vita parallela a quelle universitarie qui presenti riporto un esempio che è quello del museo Craveri di Brà che ha le collezioni ovviamente dei fratelli Craveri tra cui quelle provenienti dal Messico c'è un esemplare tra le varie tra i vari numerosi esempi quello della moffetta comune che trovate esposto nelle vetrine dell'America centrale di cui esiste donato da Federico Craveri di cui esiste anche un campione nel museo Craveri di Brà ecco arriviamo al punto focale che è quello della sempre tra le finalità enunciate nella legge istitutiva del mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura adatta a conservare utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino e questi tre verbi sono quelli che adesso ci accompagneranno per quanto riguarda la conservazione il museo nel tempo ha sostenuto un notevole impegno di risorse per rendere adeguati e fruibili i depositi per la conservazione delle collezioni quindi parliamo di cassettiere destinati alle collezioni mineralogiche petrografiche a quelle di anatomia comparata piuttosto che armadi per le collezioni entomologiche e ornitologiche o armadi destinati a contenere i minerali radioattivi qui ne abbiamo alcuni esempi per la mineralogia l'ornitologia e per il deposito visitabile di cui ha parlato il professor Bavia che è di insomma recente allestimento qui al museo per le collezioni paleontologiche poi ci sono nel discorso che si faceva prima dei lavori ancora in corso ci sono dei lavori finanziati dal Ministero della Cultura per il recupero di un deposito per le collezioni di mammiferi e uno per le collezioni in alcol che sono lavori che sono attualmente in corso e anche di ulteriori spazi da destinare alle collezioni paleontologiche per quanto riguarda queste collezioni nel 2023 sono stati completati l'arredo del deposito di paleontologia e il trasferimento da Palazzo Carignano delle collezioni paleontologiche questo significa che nel 2023 c'è stata la riunione delle collezioni del Museo di Storia Naturale quindi dall'Accademia a Palazzo Carignano da Palazzo Carignano in Viaggiolitti abbiamo completato e riunito quello che è il Museo di Storia Naturale qui alcune immagini della migrazione dei reperti di dimensioni maggiori da Palazzo Carignano a Viaggiolitti e della loro sistemazione con alcune precauzioni alcuni problemi legati ai campioni di maggiori dimensioni o il recupero degli arredi che sono stati restaurati anche qui con un impegno significativo di risorse trasferiti da Palazzo Carignano e destinati alle collezioni paleontologiche nell'interrato oppure a quelle zoologiche e nell'ala del Museo Storico verso Via Giolitti gli armadi che ospitano adesso le collezioni di anatomia comparata agli scheletri sono quelli che erano a Palazzo Carignano e contenevano le collezioni paleontologiche poi gli interventi sono stati notevoli anche nell'ambito del restauro perché molti esemplari hanno avuto necessità di restauro è riportato in in alto l'atelier che era un laboratorio diciamo istituito sulla fine degli anni 90 per mostrare al pubblico in diretta le attività di pulizia e di recupero degli scheletri e il pubblico e le scuole sono rimasti molto interessati a seguire le attività di pulizia sotto abbiamo altri esempi dei recenti restauri della collezione di zoologia e in alto il restauro del del bison che ha mostrato prima il professor Pavia nelle vetrine il secondo verbo di cui trattiamo è l'utilizzare cioè il rendere utili non lasciare nascosti i materiali ma renderli fluibili e quindi a completamento dei lavori di restauro e di sistemazione nel tempo c'è stata la stesura e la pubblicazione dei cataloghi qui ne abbiamo alcuni di cui di uno si è già parlato le collezioni erpetologiche le collezioni geolitologiche e le collezioni di meteoriti ma non non solo rendere fruibili significa pubblicare dati cataloghi ma anche lavori scientifici quindi su riviste scientifiche di livello internazionale sono usciti cataloghi come quello degli uccelli estinti o in via di estinzione o dei tipi degli uccelli qui conservati Mineralia Torino di cui si è già parlato è un catalogo in cui si è voluto aggiungere gli aspetti scientifici gli aspetti strettamente estetici quindi mostrare con belle fotografie quanto alcune collezioni siano preziose anche dal punto di vista estetico e ostensivo il terzo esempio è quello dei cataloghi online abbiamo diciamo incominciato questo esperimento di collocare le collezioni naturalistiche nell'ambito delle collezioni dei beni culturali quindi su questa piattaforma memora della regione Piemonte in cui all'elenco dei campioni con le loro caratteristiche presenti sui cartellini sono aggiunte le immagini valorizzare significa condividere i contenuti delle collezioni non solo con gli specialisti ma anche con il pubblico e quindi attraverso le mostre sia in sede che presso altre istituzioni i cataloghi delle mostre incontri conferenze convegni chi più ne ha più ne metta o anche trasmissioni televisive perché perché no anche i nostri campioni sono stati portati in televisione un esempio è quello del ciclo passaggio a nord-ovest dove alcuni esemplari paleontologici con il nostro collega Daniele Ormezzano erano protagonisti del set televisivo qui abbiamo altri esempi di mostre la mostra memoria della scienza che è stata una diciamo un punto fondamentale nell'escursus nella storia della delle collezioni scientifiche torinesi o un esempio di mostre in altre sedi come la presenza di campioni delle collezioni torinesi nella mostra per il bicentenario di Darwin al Palaexpo di Roma e poi itinerata in altre sedi a Milano e a Bari un po' di Amarcord il biglietto di invito dell'apertura al pubblico del museo storico e dell'Arca nel dicembre del 2000 o l'insieme delle piccole mostre denominata collezioni invisibili nella seconda metà degli anni 90 che ha coinvolto ad esempio le collezioni mineralogiche ma tante altre discipline come licheni anfibi e primati ancora scheletri in luce nel 2004 con l'esposizione degli scheletri del museo di anatomia comparata o due piccoli eventi legati ai minerali utilizzati nella fabbricazione della porcellana che sono stati ospitati in una mostra a Palazzo Madama nel 2017 e poi in una vetrina appositamente dedicata che è diventato un piccolo spazio permanente sempre a Palazzo Madama o ancora sempre i minerali per la porcellana e per i coloranti usati nella fabbricazione della porcellana a Vinovo nel 2019 o nel 2010 per la grande mostra che ci fu in occasione dell'anno della biodiversità in cui le collezioni universitarie l'hanno fatta da padrone per esprimere tutta la grande e bella diversità del mondo vivente e non solo altre mostre minerali a meteoriti lo spettacolo nella natura che ha avuto una breve vita diciamo nel 2013 e poi la grande mostra che c'è stata sulle estinzioni e poi il discorso che è stato già presentato delle collezioni che sono presenti qui di reperti animali estinti o in via di estinzione e quella tematica molto importante di sensibilizzazione che è importante che i musei facciano del pubblico verso le specie che possono essere a rischio di estinzione o addirittura quelle che sono state estinte come si suol dire per colpa nostra questa mostra è stata presentata nel 2017 al Palazzo della Regione e sarà riproposta poi qui come allestimento permanente non appena le sale saranno disponibili mi avvio la conclusione con una piccola presenza diciamo a cadenza annuale di minerali alla rassegna Mineral Expo che è giunta oltre la cinquantesima edizione in cui le collezioni universitarie sono presentate su tematiche diverse qui abbiamo i meteoriti e proprio alcune collezioni significative vi vorrei parlare di un campione in particolare che era stato esposto come esempio di difficoltà che si possono incontrare nella valorizzazione dei campioni questo è un piccolo campione di oro nativo nel quarzo con un cartellino molto sintetico provenienza Cile il numero di catalogo lo colloca tra gli esemplari del periodo di Borson andando ad approfondire lo si trova nel catalogo del 1830 di cui si è già parlato però non nella trattazione generale ma negli addenda cioè quei campioni che sono arrivati quando il catalogo era ormai pronto per la stampa quindi lo si può collocare verso il 1830 come anno di arrivo attraverso ricerche effettuate per altri motivi all'Accademia delle Scienze è risultato tra i manoscritti l'indicazione che si trattava di uno dei campioni inviati da Carlo Bertero botanico accademico delle Scienze all'Accademia al professor Borson per il Regio Museo Mineralogico e questo campione di oro risulta con la stessa descrizione che è stata poi pubblicata sul catalogo del 1830 quindi approfondendo le ricerche possiamo dire che si tratta di un campione inviato dal botanico Bertero che ha effettuato la sua spedizione in Cile tra il 1827 e il 1831 ed è stato donato da lui stesso a Borson tra l'altro uno degli ultimi materiali giunti in Italia perché poi Bertero perì nel viaggio di ritorno da Tahiti al Cile quindi questo per evidenziare come le operazioni di valorizzazione dei campioni non sono sempre semplici e scontate quindi concludendo i nostri tre verbi conservare utilizzare e valorizzare possono essere sinonimizzati a conservare significa tramandare cioè lasciare le generazioni future utilizzare e condividere condividere con altri con il maggior numero possibile di persone e valorizzare aumentare di valore arricchire quindi possiamo dire che il ruolo di un museo è quello di consegnare le generazioni future un patrimonio storico che sia non solo preservato ma anche reso noto a molti e il più possibile aumentato di valore grazie i crediti fotografici grazie Anna Laura quindi abbiamo chiuso qui gli interventi ma io poi pregherei un attimo il direttore fino se vuole venire qui con me abbiamo sentito diverse storie attraverso le relazioni che puntualmente e chiaramente in maniera molto sintetica hanno evidenziato certi aspetti peculiari di alcune collezioni certi aspetti storici episodi anche in alcuni casi casuali ma che comunque ci hanno portato ad avere questo patrimonio così ingente e di cui credo tutti dobbiamo sentire la responsabilità di conservarlo e di farlo conoscere il più possibile e lo scopo di questo ciclo dell'Accademia era proprio quello di promuovere la conoscenza e la condivisione dei beni culturali nel senso più ampio del del termine e ringrazio il gruppo di lavoro dell'Accademia che ha accolto quest'idea di utilizzare anche questa parte della storia del territorio e dell'evoluzione del pensiero anche scientifico in qualche modo nelle discipline che qui sono rappresentate per far sì che questo sia come dicevo all'inizio una specie di museo ritrovato ritrovato ricondiviso e di cui il territorio si può completamente riappropriare grazie ancora a tutti e lascio la parola al direttore prefino buonasera a tutti io faccio molto in fretta perché i miei sono anzitutto dei sinceri ringraziamenti al direttore dell'Accademia delle Scienze e all'Accademia delle Scienze in generale che ha condiviso con noi questa giornata che è stata veramente molto interessante veramente molto bella ringrazio tutti i redattori di oggi che ci hanno regalato donato questa sapienza questa conoscenza che è utile da tramandare da preservare al di là dei beni materiali che qui sono conservati penso che la cosa più bella la cosa più importante che questi beni abbiano è proprio le storie che raccontano il loro vissuto che oggi abbiamo potuto rivivere attraverso i racconti che chi oggi ha parlato ha saputo magistralmente raccontare io sono contentissimo di ospitare tutti voi qui di riprendere questo rapporto di sinergia con l'università con l'accambio delle scienze perché credo che sia il fulcro dell'esperienza del museo il museo di scienze naturali per quanto appunto abbia dei contenuti interessanti per quanto sia in un fabbricato eccezionale penso che non possa esistere se non un contesto così ampio è così bello come quello che si vive qui a Torino quindi fare sistema credo che sia la base per poter lavorare bene per poter fare quello che Anna Laura anche lei ha raccontato perfettamente adesso cioè quello che è la nostra missione quindi il mio intervento è solo esclusivamente per ringraziarvi di questo bellissimo pomeriggio di continuare di invitare a continuare tutti a collaborare insieme per portare avanti queste queste conoscenze queste consapevolezze che abbiamo espresso oggi e niente di invitarvi a tornare al museo ogni volta che volete perché è casa vostra non è non è solo casa nostra ecco grazie e credo possiamo ancora forse per una mezz'ora grosso modo approfittare dell'ospitalità dell'ospitalità del museo e dei suoi conservatori per vedere quanto è al momento disponibile è così? Assolutamente siete liberi oggi il museo era chiuso l'abbiamo aperto apposta per voi quindi potete tranquillamente visitare le sale serenamente qua e là vedrete un po' di conservatori Anna Laura Massimiliano vedo un po' i nostri conservatori se volete fermarvi con loro se no potete girare liberamente spero vi piaccia spero che insomma possa appassionarvi quanto appassionato noi nel riallestirlo e nel rirenderlo fruibile quindi prego adesso accendiamo anche tutte le i contributi audio e video che ci sono così potete vivere l'esperienza del museo nella sua interezza grazie a tutti e buona serata grazie grazie